minchia ma ragazzi ma ci sono sempre problemi voglio sempre problemi signori sempre sempre problemi madre di dio dio buono sempre sempre problemi con questo computer di merda buon tonno come state ragazzi come state ditemi c'ho un po di mal di pancia quindi sto ancora digerendo quello che ho mangiato stasera non si vede lo so lo so ciao gatto ciao a te ciao antonio come sta? ciao a te mio qualcuno incerto dove può stare? accogliti su sassin creed vallala allora ciao danilo ciao il pac e ciao fifa come state tutti quanti? come state? buongiorno lo so ragazzi adesso sistemo ora avviato il computer ora avviate il computer datemi un attimo devo avviare anche le stream le altre stream un attimo si però non è possibile ogni giorno ci sono sti problemi oh figa sempre che palle oh mamma mia un attimo oh ma sempre lei stai minchia adesso vengo lì guarda ciao amore ciao amore ciao amore mia pro le pro le ma 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 mi ha scritto due vagina ma io condivido un numero comporerei mi segue? ho voglia di pesce? io voglio di figa? larga possibilmente come senti a lei non potete che non vieni da molto cazzo ciao francesco benvenuti in live Allora Ciao Asia Ciao Emerald come stai? Ciao cucciolo Leggi porfa No io non sono una porfa Allora Tommi oggi I crazy raccont Team Con il tipo con più mondali vinti Su Brawl Oggi stanno per perdere contro Dei debuttanti Ma in che senso? Ma cosa mi stai dicendo? Allora raga datemi un secondo Ma chi è che sono questi? Questo team scusa Raga un secondo Datemi un attimo Datemi un attimo Un attimo Ciao Paki Ti saluto Ciao Baby Oggi dove cazzo è Klax? A dormire L'ho mandato a letto L'ho mandato a letto prima Si vede? No non ci vedo un cazzo Ma che cazzo si deve vedere? Mi chiamo ogni volta No però raga non è possibile Giuro giuro Porco dio giuro Ci sono state le finali mensili Ma da quando ci sono Eh I torni di Brawl Stars Mensili Eh raga ma per co... Eh non si è Comunque benvenuti tutti quanti Benvenuti che sono in live Un bacio a tutti quanti Quello lì Faccia live su TikTok Dammi un attimo Cazzo Facciamo un buon cazzo qui Allora Mi devi sposare oggi E me l'hai detto Eh di là purtroppo Non c'ho avuto tempo Baby Non c'ho avuto tempo Del 2020 Non c'ho avuto tempo Poi Anto Oggi Se vuoi vedere Discord Se vuoi vedere Discord Uno del 2020 E' ritornato Mi ha detto Di Animatronics Il gioco Animatronics Non so Non so se ti ricordi Che lo si giocava Porca puttana Buon cazzo ragazzi Ciao profilo senza Seguito Ha 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 Acordate Io ho sperato che ti seguo Non ti seguo Non ti seguo assolutamente Ciao Ciao amore mio No non è FNAF Animatronics Un altro gioco Un altro gioco Che si faceva Che facevo Ha 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 È FNAF No non è FNAF È Animatronics È un altro No 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 Non è FNAF Non è FNAF Come se è il mio bro Ha 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 Vieni qua Luciano Vieni qua madonna Vieni qua madonna Un secondo Non lo so che non si vede Datemi un attimo Non posso manco urlare Perché sto digerendo Insomma mi viene Un ball di pancia Incredibile Oh ma si vede Sta merda Di Brawl Stars O no Garden of Balban No baby Eh animatronic Come cazzo si chiama Bala non mi viene in mente Figa Eh don Vieni qua su discord L'ha scritto L'ha scritto Una persona che mi seguiva Il 2020 Vuoi vedere C'è una chat Fammi ricorda Come cazzo si chiama Ti voglio bene Puri io ti amo Puri io ti amo Michele Ma come cazzo si chiama Oh Case Animatronics Esatto Oh Case Animatronics Ragazzi Io mi cago sempre sotto Dal 2020 Da quando l'ho portato Io non sono mai riuscito A completarlo Non sono mai riuscito Poi come quel gioco Mi fa cagare tutto Se volete Se volete Ragazzi stasera Lo porto come Come gioco Come gioco horror Dai forse stasera Lo porto come gioco Forse stasera Lo porto come gioco horror Forse lo porto come gioco horror Lo riporto Ragazzi bisogna finire Quel gioco Si bisogna finire Per forza Anche se a me Mi fa cagare sotto Mi fa cagare sotto Adesso L'avvio live su Twitch Datemi un attimo Ma perchè non si vede Minchia Ma non mi posso incazzare Cazzo Niente raga Oggi Oggi è buon cazzo Oggi raga Non si vede Oggi non si vede niente Non si vede Oggi non si vede niente Allora Datemi un attimo Che metto fuori gli iscritti E avvio la lobby Datemi un secondo Che dovevo fare 20 cose Devo fare Essendo che ho avviato il computer Questa è una cosa Ciao Francesco Come stai? Ciao Damio Grazie a me Grazie a me Per la descrizione Grazie 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 Cristina Benvenuta in live Live nera? Sì Live con un nero Il nero è Anto Anto presentati Adesso ragazzi Due secondi Anto si Si presenta Però non lo insultazzolo Perché è nero Mancazzo ragazzi Oggi Mancazzo Eh Danilo È pieno purtroppo Baby È pieno purtroppo Il Il club Ah no Adesso è pieno Adesso è pieno Oggi non penso No Non penso La faccia di costa Grazie Maria Grazie cucciola Grazie cucciola Benvenuti in live Ciao Benvenuti in live Ma raga Ma neanche il tempo Già Già si è riempito il clan Il 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 coso Come cazzo è possibile? Ma neanche due secondi Ahmed Perché Google Mi ha richiesto il rimborso Purtroppo Mi ha richiesto il rimborso Ha fatto Tutto Google Ha fatto Tutto Google Ha fatto No Però Io Io raga Io giuro Io devo bestemmiare Giuro Io Io porco Dio ragazzi Io devo bestemmiare La mia volta Per mettere tutto Ogni Ogni Santa Volta Raga Mettere tutto E non rotture Di coglioni Ogni volta Ogni volta Questo perché Questo perché Devo spegnere La mia volta Il pc Quale parole Vi manca? Ma raga Mi manca questo Cazzo Sblocca con 5 gemme Ecco Ecco le 5 gemme Ecco le 5 gemme Ecco le 5 gemme Oggi faccio Fortnite Sì Oggi lo facciamo Cordelius Vabbè tanto Tanto mi mancano Solo Solo 4600 gemme Per averlo 4150 Dai non me ne mancano Tante dai Qualcogina Solo a 600 euro Raga Mi potete dare un consiglio Come cazzo Brock 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 Però ce l'ho 1.093 1.093 Con Brock Come si chiama il club Il club è pieno Si chiama Broderini Ahmed Ma è pieno Allora Adesso metta Dai puri su Tranquilli State tranquilli Guccioli Quanto è che ci vuole Per fare 400 punti Di maestria Per fare Raga 400 punti di maestria Quanto è che ci vuole Non si vede più Non si vede più Non si vede più un cazzo Raga Niente Non Non vuole funzionare Oggi Non vuole funzionare Oggi Raga Oggi streammaps Non vuole collaborare Oggi raga Streammaps Non vuole collaborare FIFA non Ancora Non ho 40 ameri Cazzo Fai me a grenade Ovvio Vabbè Fai il culo Veramente Dai 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 Pusciami ancora Dai Pusciami Pusciami ancora Bell E prego Pusciami ancora Dai Vediamo se mi pusci ancora Niente Non mi ha dato L'ultima Madonna Puttana Faccio merda Ma niente Purtroppo Boh Fortemente lo faremo Per le 11 e un quarto Vediamo 11 e 20 Ragazzi Io forse riesco ad avviare pure Twitch Così almeno Per chi vuole vedere la live in grande Può vedere la live in grande Sempre se ovviamente ce la faccio Sempre se ce la faccio Quanto godo Ah 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 Bra 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 Godi Cogliere di merda Godi Adesso ti banno dal canale Ti banno Oggi o meno Vediamo se godi ancora Guarda Mi sono eliminato Adesso vinco lì Adesso Adesso vinco lì Faccio il culo Così ti faccio Poi vediamo Se godi ancora Vediamo Bene E' ritornato 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 Dopo Andiamo Su Segui ancora Guarda Teo Ma non ho parole E' Puginavano Con te Tutti i miei Puginavano Devo citare C'è la tua La ginnastica Mi ha venuto In live Come stai Ciao baby Allora Aspettate un attimo Raga Datemi un attimo Qua che cazzia Che devo fare Oh madre santa No Qua Avvia streaming Raga tranquilli Adesso l'avvio Calmati No Non mi calmo Cazzo Non mi calmo 10 minuti Mi sono passati Mi sto incazzando Sto incazzando Enrico Sto incazzando La puttana Allora Ma raga Perché non va Perché non va Impossibile Aggiornare Le notifiche Di inizio Inizio Trasmissione Cosa Cosa Non è possibile Non è possibile Raga Mi fa fare la stream Su Twitch Mi fa fare la live Su Twitch A posto Tommy non mi legge No non mi leggo Non ti leggo neanche Guarda Non leggo neanche il nome Non ti leggo Non ti leggo Non ti leggo neanche il nome Non ti leggo Non te lo leggo neanche Coglione Così impari A cambiare il nome Adesso E avventi pure due settimane Aspetta Sì sì ma lui continua a cambiare il nome Nicolas E quello è bello Lui continua a cambiare il nome Ciao Marco Benvenuti Come stai cucciolo Lacker dietro l'angolo Mi stanno chiedendo Ma qui raga Mi mente non funziona un cazzo No no ma Con calma Nel senso Con calma Con calma Mi raccomando Calma Allora Eh raga Non si vede Lo so che non si vede Ciao Vincenzo Come stai cucciolo Come stiamo Ero mio Come stiamo Ero mio Tutto bene Allora Battaglia reale Ce la possono fare Raga ce la possono fare Ad avviare la stream Forse ovviamente Forse Perché non me la fa avviare Ma perché sei uno stronzo È un pezzo di merda Perché non me la fa avviare Tutto bene Tutto bene A parte che ho un po' di Un po' di mal di stomaco Ma comunque Per il resto Stiamo bene dai Un po' di mal di stomaco Al momento Quindi per quello che non È per quello che non urlo È per quello che sto Un attimo Ma raga Ma perché non posso Giornare Non mi fa Aggiornare Le cose Dello stream Oddio Io l'ho parlato Con il mio idolo Chi è che è stato Favij Sicuramente Sarà stato Favij Che ha Che con cui hai parlato Dimmi la verità Allora Aspetta un attimo Twitch raga Me l'ha fatto Me l'ha fatto avviare Ma non Non mi fa fare un cazzo Non mi fa fare Ma non mi fa perché Twitch è proprio una piattaforma Di Oh io l'ho sempre detto Twitch è una piattaforma Di merda E resterà una piattaforma Di merda Sempre E lo sarà sempre Piattaforma Di merda Twitch è esploso Amica ma Speriamo che esploda Direttamente Jeff Bezos Santo Gli cade un meteorito In testa Così guarda Gli arriva un terzo occhio Un terzo occhio Dopo la morte No ovviamente Ovviamente Jeff Bezos Domani ragazzi Al TG5 Ci arriva la notizia Comunque Dopo il gioco A Fortnite Vincenzo No Amazon mi serve Ma vai a fare Cura dai Amazon Mi continuano a bloccare L'account Mi continuano a bloccare Mi compro una cazzo Di cosa su Amazon Non posso Perché mi continuano a bloccare L'account Si stronzi Ciao Mattia Benvenuti in live Ciao Filippo Come stai cucciolo Come stai Guarda mio Ciao Ma dice non valido Eh ma perché Ahmed Devi essere velocissimo Devi essere Perché devi essere velocissimo Cucciolo Ciao Vittor Ciao cucciolo Come stai Ciao Tora Benvenuti in live Tutti potete giocare Raga Tutti potete giocare Tutti raga Potete giocare Tutti quanti Ma io ragazzi Sto morendo di caldo Però Io ragazzi Sto morendo di caldo Figa Cioè ma anche da voi Si muore di caldo No da me Da me si Perché C'ho tutto quanto chiuso Io raga Sto Sto Seriamente Muorendo di caldo Porca puttana Ciao il bro Ciao cucciolo Come stai Ma perché Non si vede Perché Non si vede Niente Niente raga Oggi ci bisogna Bestemmiare Niente Io sto con le finestre Spalancate E sto diluviando Adesso è un grande Adesso vedi che ti arriva Una grandinata in testa Adesso ti arriva Una grandinata in testa Guarda Me lo fai mettere Bello stars Come categoria Mi vuoi far bannare Oh grazie Gentilissimo E' tutto nero Sai perché è tutto nero Perché E' Anto Che mi sta cadendo Ragazzi Colpa di Anto Se ragazzi Ti vede nero E' colpa di Anto Ragazzi Mi sta cadendo Lo schermo Dai Anto Basta Donna Ma è sta cadarmi Non si vede E' Anto Lì tu che mi sta cadendo Dai Anto Per fuori Dai Basta cadarmi Su Perché mi rifiute La richiesta No Ma Danilo Non rifiuta La richiesta Baby Ma per cosa Poi Per il club Per entrare Quando Ma picchi Oh stai bannando Picchi Ma stai a posto No comunque Ragazzi lo so Come si vede Non si vede un cazzo Dai 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 Su io mi ammazzo Dai Dai mi ammazzo io Vaffanculo Madonna Oggi Oggi ragazzi Non vuole Non vuole andare niente Non vuole andare Ciao Mario Mi vuole del live Ragazzi lo so Che non si vede niente Ciao Mario Yusef Come stai Io sto Sto Più o meno bene C'ho un po' di mal di pancia Dove abito A Milano Baby Sono di Milano Oh minchia Ma perché Fa così Ecco Posta è crashato Ottimo Minchia Minchia Ragazzi Minchia Minchia Ma io quanti Per semmioni Devo tirare Per sto cazzo Di bluestacks Di merda Ma madonna Puttana Mi puoi fare Moderatore Sì subito Aspetta un attimo Allora Subito Oh scusa Ti ho Ti ho chiesto Solo una penna E invece Ti ho chiesto Una figa Qua non me l'hai data Sto aspettando ancora Sto aspettando ancora Da oggi pomeriggio Vediamo quanto Devo aspettare ancora Puttana madonna Che cazzo faccio Ma io Minchia ragazzi Che autismo Minchia ragazzi No io veramente Non ho parole Gatto 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 Madonna Welcome to Blasters Ragazzi Non si vede adesso Spacco tutto Allora ragazzi Non si vede adesso Perco Dio Ciao ragazzi Adesso Adesso tiro un cartone Adesso tiro un cartone Adesso tiro un cartone Minchia davvero giuro Davanti a tutto Davanti a tutto Spacco tutto Veramente Spacco tutto Se non si avvia Se non si vede Maggi siciliano Per favore Stai zitto Stai zitto Pure Te la bocca Madonna Ti reggo Solo in arabo Ti reggo Per un attimo Avevo sentito Crash Royale Esatto Raga Ma si vede? Ah Al momento si vede Al momento Sì sì Guarda Vincenzo Mi fa male la pancia Ma mi devo incazzare Lo stesso Per sto gioco di merda Renditi conto Renditi conto Renditi conto Renditi conto Renditi conto Sì No Sì Grandi Ma su Twitch Ah ok Su Twitch c'è qualcuno Quando mettono il temato Di 10 anni Antonio Spero il più presto Guarda Dopo mandiamo la richiesta A Youtube Dopo Dopo il live Se rimani fino a tardi Contattiamo l'assenza A Youtube E lo facciamo No comunque No Non devi donare Com'è che si chiama Victor Se ti dono Mi fai un donatore No Ciao Antonio Come stai Ciao Baby Ciao Baby Ciao Baby Come stai Ma tipo Leggimi qualche volta No Perché sei un Gatto L2 Togli non disturbare Ma se metto il non disturbare Dopo mi invitano sempre gli stessi Devo far giocare tutti quanti Cuccio Cantante professionista Io Guarda Se io veramente Ti devo fare Ti devo cantare una canzone Allora grammatica Ti emozioni Ti emozioni Fidati Fidati Ti emozioni E non poco Raga Ma io appena non ho manco avviato Twitch Io non Sì vabbè Dai Oggi non ci sono Dai Ho capito Oggi non ci sono ragazzi Ciao Come stai Come stai Baby Allora Datemi 5 secondi Grazie Broderino Grazie Broderino Grazie 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 David Grazie David Grazie 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 Baby Grazie Grazie Benvenuti in live Metti Wuf wuf Ma sei già te Wuf wuf Metto Metto te Wuf wuf Ma sei già te Wuf wuf Cos'è che devo mettere Metto te Sei già te Wuf wuf Sei già te Wuf wuf Sei già te Wuf wuf No no Dalino Non ti Che Dalino Non ci devi provare Però Ci devi provare Ciao Buongiorno Ciao Gamer Ciao Cucciolo Oh Clocks Arnada La Cloc Ciao Cucciolo Ciao Gamer Ciao Baby Si vede Di nuovo No 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 Adesso si vede Adesso si vede Adesso si vede Adesso si vede Mi sono iscritto Ma non mi c'è La scritta Perché sono Quelli iscritti Quelli nuovi Lo fanno Non è che C'è fatta Togli Li metti Togli Li metti Si vede Si A me Magari Togli Togli Che grande Quelli Quelli pure Togli Togli Come state Come state Cuccioli Io non faccio In tempo Ad entrare Eh si Perché entrano Ragazzi Tutti quanti Entrano Non Ti permettere Ti permettere Oggi Ragazzi mi fa male Veramente la pancia Oggi ragazzi mi fa male Seriamente la pancia In un modo In un modo Raga Incredibile Non mi chiedete Il parca Merda Putera Può giocare Tutti raga Potete giocare Tutti quanti Tutti raga Potete giocare Tutti quanti Tutti Cuccioli Tutti raga Potete giocare Tutti quanti Ciao Yusef Ciao Grazie Nino Grazie Tim Grazie Mamun Grazie Per il follow Grazie Cuccioli Grazie raga Mortis Fredone Bella Luca Benvenuti in live Grazie Luca Ma grazie Per Per l'iscrizione Su tiktok Sì su twitch Oggi raga Non ci sono con la testa Oggi raga Oggi raga Fate finta Che non ci sono Oggi raga Mi sento proprio Proprio stanco Mentalmente Oggi mi hanno fatto Impazzire Siamo a perdere Dai Siamo a perdere Ti ricordi Gamer Aspetta Come fai ad avere Meno 4.000 Perché Perché Alessandro Perché Google Mi ha richiesto Il rimborso Purtroppo Ciao Go to them Benvenuti in live Ciao Go to them Mi chiamo Studio aperto 97 Però non ti vedo qua Non sei andato nel gruppo Ciao Benvenuto Nicolas Deve neanche contare Power up Di cosa Cos'è che stai scrivendo Non vale però Tommy Come faccio a bannarti Basta che tu hai punto Schiamativo Ban E ti banno Dal canale Ti banno Minchia raga Ma già è pieno Cazzo Benvenuti in live Ciao cucciola Cazzo gatto Comunque raga Per il rimborso Di Google Però che ho almeno 4600 gemme Vai affanculo Dai Mi dite così Dai Mi dite così Dai Lo sai chi sono? Mio padre E te sei mio figlio Te sei mio figlio Oh Venti Cattoli Ciao Amore mio Ciao Amore mio Do come Sono verticali Perché fra Hanno fatto l'aggiornamento Hanno fatto l'aggiornamento Ciao cucciola Come stai? Vendicatore Ciao cucciolo Da quanto tempo Oggi Oggi Mi fa male un po' la pancia Vedi per quello che mi vedi un po' Mi vedi un po' Non dico tranquillo ma Mi vedi un po' la pancia Non lo so Come Come raga Reagisco Grazie Grazie Pure io Un bacino Ciao Amico Come sto? Sto tutto bene Stefano Te come stai? Sono quello che ho commentato Un bello Missy Brawl Ma dove? Dove però? Ah è tanto pubblico Vedo No ma Ma Vendicatore Con te comunque Come si dice Te devi vedere poi La vera gente Che rimane Che guarda gli horror Perché Tutta la gente C'è principalmente per brawl Poi devi vedere seriamente Chi vi vuole bene Chi vi vuole seriamente bene Rimane fino agli horror Posso dire C'è tutti Potremmo venire In reale Poi mi vedi in live Poi devi vedere Chi seriamente Mi vuole bene Chi vi vuole bene Rimane fino agli horror Anzi Rimane fino a live Quindi sono pochi Quelli che seriamente Vogliono bene Che raga Rimane fino alla fine Della live Seriamente Mi vuole bene Quindi È anche per quello Io sto tutto bene Cucciolo Il più fresco D'Europa E vediamo Se sei più fresco D'Europa Ciao Pietro Ciao Cucciolo Ti ricordi Quando c'erano Gli 8-7-8 Spettatori Eh ma questo Perché anche Perché non faccio Le live Verticali Sì Le live verticali Le live Horizontali Fidati Se no Vi indicatori Faccio le live Horizontali Non so Quanta gente Che c'è Fidati 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 di me Ciao Aiuto Ti do La mia amicizia No io voglio La figa No io voglio la figa Ciao Cucciolo Come stai Mi piace Giù per fuori Ovvio Vieni Bro stamattina Ho schiallato Perché ho bloccato Ambra Dovevi sbloccare Ipsons A meno due Dovevi sbloccare Tommy sono morti S'quolo di ieri Cioè te sei morti S'quolo di ieri No Te ti mi dite il ban Te ti mi dite il ban Dopo Dopo ti mi dite il mio canale Dopo ti mi dite il mio canale Tutto bene Tutto bene Tutto bene Tutto bene Tutto bene Scusate per il ritardo Sei tranquillo Ok Sei tranquillo Comunque dopo giochiamo pure A Fortnite Dopo che giochiamo a Fortnite Ciao Gioele Ciao Cucciolo Allora Comunque raga Io ringrazio Dopo che Entra su Su Discord Oltre che dopo Giochiamo a Brawl Stars Ancora per un po' Per una ventina di minuti Ehm Poi raga Giochiamo a Fortnite Poi giochiamo a Horror Giochiamo a Horror Molto probabilmente Ehm Sì vabbè Ehm Davide scrivilo te il gioco Niente Non lo gioco da così tanto E non mi ricordo mai il nome Dopo giochiamo a raga Un bel gioco da Horror Da Da telefono Che io Ormai mi scordo sempre Quale gioco? E quello che Quello che vi hai scritto te Card Animatronics Quello lì Tutto bene Nico Tutto bene A parte che c'ho Un po' di Mal di pancia Possiamo dire No raga Non mi viene in mente Porca puttana Esatto Vendicatore Esatto Esatto Merda Quella Quella che vi hai detto te Vendicatore Quella che vi hai detto te Su Discord Però non mi viene il nome Non mi viene il nome Ragazzi Minchia Oh Dio Farei The Hunt The Hunt non lo conosco Hashtag I'm so Hashtag I'm so Hashtag 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 I'm so Oh ragazzi Sei molto Oh C'è una rosa Chris Animatronics Oh Minchia Adesso blocco il messaggio Così almeno Cos'è me non me lo ricordo Minchia Salve Almeno me lo scordo Esatto Chris Animatronics Minchia te lo giuro Spammi un altro emotio Te lo giuro Minchia te lo giuro Che ti potrei bannare dal canale Ti faccio picchiare da Da tua cugina Te lo giuro prelle Se sei dai prelle Minchia Oh no è Siria Ma ora ti faccio picchiare da tua cugina Sto come lo dici Ecco si è spaventato Comunque Oh grazie Salvatore Grazie per le tre rose Grazie cucciolo Grazie mattolo Allora comunque raga Sono stato bannato Per Tommy 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 No 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 Ciao Salvatore Benvenuti in live Raga io vi ricordo Che se volete Quelli di tiktok Se volete Venite su youtube Cazzo Che vi leggo più facilmente Ho sbagliato Deante Con la schier Deco No Deco Penso che non lo facciamo Lo facciamo Mentre che domani Lo facciamo E poi Facciamo Just dance Dopo Che animatronics Raga oggi Veramente Oggi Oggi raga Non ce la faccio Oggi mi sento male No minchia Ma non capisco un cazzo Bravo bravo Pusciami coglione di merda Bravo eh Cato Spero che Ebbene Minchia Esplodi domani Porca madonna Spero che Esplodi domani Guarda Mino 4.000 gemme Hai fatto il trick Di rimborsi No Vendicatore Allora Io raga Una volta Sincero Una volta Vi posso dire la verità Una volta Grazie Grazie Mi descrizione 104 spettatori Vi amo tutti quanti Quelli di tiktok Vi amo tutti Ciao francesco Dimmi cucciolo Una storia doppia Leggendario free Come una storia doppia Leggendario free Cazzo dice Una volta Io raga Ma questo Io vi dico Tre anni fa Tre anni fa Avevo fatto Sta cosa Avevo comprato Delle gemme E poi le avevo Rimborsate Perché ho provato A fare il furbo Ma Ovviamente Aveva furbo Ho fatto una Gazzata Perché mi sa Che mi avevano bannato Mi avevano bannato Ma poi raga Mi avevano sbannato Non so Non mi ricordo bene Mi avevano poi sbannato E dopo In questo caso Io ho comprato Il brawl pass plus Vendicatore Ma io non ho rimborsato Un cazzo Io non ho richiesto Un rimborso L'ho richiesto Direttamente google Tutto loro L'hanno fatto Tutto loro Niente Poi Così a caso No ma niente L'altro Io ricevo Un'email No neanche L'email Neanche Direttamente su Persona lo dice È stato rimborsato Così a caso Grazie god Grazie per la rosa Calmati Mi devo calmare adesso Che non sto manco Orlando Figurati dopo Figurati dopo Me ho 4000 Sord Ciao Leonardo Buon giorno di live Qual è il mio gioco Perferito Ma io Non ce n'ho Giochi di Allora ti dico Giochi della Wii Sicuramente Super Mario Galaxy 2 Super Mario Galaxy 2 Super Super Paper Mario Quello è uno dei primi Tommy Mandate una cosa In chat privata Cos'è che Mandate in chat privata Eh ma non riesco A vedere adesso La chat Cazzo Ciao Talus Raga scusatemi Oggi Oggi raga Voglio stare un attimo calmo Che Seriamente mi fa Sacco me la pancia Ciao ragazzi Ho veramente Un Allora la pancia Cristo Ciao Leonardo Benvenuto È piacile Esatto Esatto Vendicatore Finchè non mi passa la pancia Oggi Oggi la live sarà Sarà tranquilla Quindi Certa gente Sarà anche fortunata Possiamo dire Quindi zitto Ma quindi zitto Ho 18 metri Capito Lo preferisco Cazzare No ti voglio bene Alex Ti posso mandare amici Ciao Talus Benvenuti in live Ma cos'è Che es animatronics Ma te 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 veramente fai Te non hai mai visto Le mie live Te non hai mai visto Le mie live Non hai mai visto Le mie live Ah no Beh è vero Te mi conosci al 2022 Mi conosci al 2022 Ciao Claudio Come stai Ciao Claudio Tommy Ma ti aiuto con i like Usa l'autoclicker Grazie baby Oh Vai su Sampleguys Cioè ma piuttosto mi uccido Piuttosto mi uccido sempre Se vado su Sampleguys Eh Ale Non lo conosci te Vendicatore te lo può dire Che cos'è Che es animatronics Solo quelli che ci sono stati In 2020 Possono Possono sapere Che cos'è Che es animatronics Ragazzi Su tutto Grazie Per la condivisione Ma come sei baio Ma che cazzo Dici che sei baio Ma non direi che cazzate Ma non direi che cazzate Ma non è vero Dai Ah 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 Aspetta un attimo Cazzisci che sei baio Ma fammi vedere un attimo Ma cazzatece Non riesco manco Cazzisci che sei baio Non riesco manco a vedere profi Ma cazzisci che sei baio Baio Aspetta Aspetta ma quale baio Aspetta un attimo Ma non quello che conosco Oh grazie per il Grazie 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 per i dici cuori Pazzo Gixleo Gixleo Oh madonna Quando finisco con Brawl Raga Ancora un 20 minuti Prima patatino Ma sei Simone Simone Baglione Scusami Ma sei Simone Baglione Ma va è impossibile Grazie Stefano Ma sei Simone Baglione No ma va Non sei lui Allora Non sei lui Addio No 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 addio no Dai per fuori C'è un cinzia M Di merda No ancora non sono una merda Ma perché raga non va Eh ma io sono un coglione Però eh Io veramente Io sono ragazzi un ritardato Eh Ma veramente a livelli massimi Eh A livelli massimi A livelli massimi Ma god Ma sei quel Simone Sei per caso Simone Sei per caso Simone Ciao ciao Benvenuti in live Ciao Sato Come stai Comunque raga se volete Quanto al caso per su Twitch Io ci sono Sì su Twitch Se volete Che vedete la live in grande Se in tal caso raga Voi volete venire Vedete la live in grande Ma pure io ti ho a Sandor Ti voglio bene Ah ma che cazzo ci fai Simo Ma che cazzo ci fai Con stik tok Ah 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 Ma mi devo proprio incazzare Quanto mi devo proprio incazzare Ma che cazzo fai Cazzo fai Ello 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 Che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo ci fai Oh madre Posso fare Roblox Ma piuttosto mi uccido Ah 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 No nel senso Ovviamente su Su tiktok No no Su Brawl Stars Ma che cos'è Ma ti è comparso la mia live Così a caso Guarda che furbacchione Oh Cerca sempre Brawl Stars Ti è comparso a me Madonna Guarda Madonna Porto Roblox No io baby Non lo porto Roblox Guarda Ci avevo fatto una live Ci avevo fatto Ma poi basta Max 2011 Grazie per il Oh te lo giuro Max te lo giuro Però tu cazzo Che mi segui E poi la togli Il sballo Facciate i banno Tipo il mio canale di Twitch Ti vanno Coglio di merda Che lo metti Lo togli Ti credi simpatico Ti credi Ma ti credi Simpatico Ti credi Porto horror Dopo Dopo porto horror baby Dopo un po' di Fortnite Porto horror Cioè ma guarda te Ma guarda te Incredibile Comunque grazie Grazie baglio Grazie baglio Per i cuoricini Però io ti voglio bene Però io ti voglio bene Baby Porco Però io ti voglio bene Baby Porco Sei uno dei miei stimi preferiti Grazie Ti voglio bene Grazie baby Dai figlio di tuccagna Figlio di puttana No 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 Non mi devi beccare Dai Stronzo 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 Sei il mio dio Io sono il tuo padre Grazie per Grazie per Per le quattro Per le quattro rose baby Guarda come mi voglio stuprare Puttana di merda Puttana di merda Troia Stronza Vacca Mer Niente ma io non ho parole Raga Ma io non ho parole Veramente Ma io dove stimmere la madonna Io te lo giuro Ma io te lo giuro Gli anni mi hanno bannato Tiktok Che cazzo hai fatto Che cazzo hai fatto A me me l'ho bannato Per dieci minuti Per sessualità No ma io non ho parole Veramente Ma gli ha la puttana Veramente E raga C'ho pure un mal di pancia Cioè Per quelli che sono Su tiktok Io raga C'ho pure un mal di pancia Immaginatevi che sto bestegnando Dentro di me E c'ho un malore E c'ho Incredibile Mi devo incazzare Ogni giorno Fai molte delle risate Ma quello è l'importante Lo porti sul bebe Al momento no Però Se raga Poi lo vorrete In futuro Assolutamente si C'è incredibile Mi devo pure incazzare Con il mal di pancia Porca Porca Quell'edgar Negli ultimi minuti Scrivete tutti i messaggi Allora Grazie Come partecipo Elvis Basta che Entri con il codice squadra Basta che Entri con il codice squadra Grazie Quanto sei bello No Te sei più bello Simo Te sei più bello Vieni qua Ti scopri tutto quanto Vieni qua Vieni qua Simo Ma le gemme Le gemme Purtroppo è entrato un hacker Mi ha messo Almeno 4600 gemme E E niente Mi hanno tolto Tutte quante Mi hanno bannato Perché Ho riportato Un in live Che stavo ubriaco E stava bevendo E mi hanno bannato Per due giorni Cosa Che cazzo vuol dire Se mi saluti Non ci vado su brawl Ok Allora un saluto Un saluto E ma Ti voglio bene Ora Ok Ora scopriamo Dimmi l'indirizzo Che vengo Comunque Ciao Nico Trasformati in Goku Aspetta Aspetta Ancora c'è un po' di malore Alla pancia Nico Un attimo Appena Appena Poi il mal di pancia Se ne va via Ti faccio un Goku Quei minchia Faccio splodere Tutto quanto Alla live Faccio splodere La faccio splodere tutto Ma what Cosa no Cos'è che è successo Cos'è che è successo Cos'è che è successo baby Mi sono rimasti 0,8 centesimi Ecco con quello Ti aggiungo 20 centesimi E ti compro Il caffè Ok Ok Oh Che cazzo Comunque raga Facciamo le ultime partite Poi andiamo su Fortnite Hello Ah mettete pronto Ma basta Minchia Te lo giuro Minchia Io sugo Io sugo Io te lo giuro Io non so se farti splodere adesso Io non so se farti splodere adesso Sugo Dopo che ho finito la stream Non lo so Quasi quasi faccio Adesso il sondaggio Almeno dopo scegliamo insieme Non lo so Se fate splodere adesso In streaming O For live San abuso Ti ho già abusato Mezzo di merda Ciao user User Trattino basso Ah no Pensavo che era un user Trattino basso 0945 8 8 8 8 Di qua Minchia Viene quella troia di merda No no Te lo giuro No No te lo giuro Dio smerdato addosso Dio Par Tu mamma Gianluca Ciao Ciao amore mio Ovvio ti saluto Vieni Tutto Tommi che lo infilo Cosa Il bastoncino Nell'arresto No 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 quello dopo lo facciamo Dove la strima Dai che mi hai ammazzato Scusami Ari Non volevo dai Scusami Ari Ti amo No è porco No è veramente No levati dal cazzo Come mi chiamano su tiktok Tommene due raga Mi trovate Ragazzi Alla che c'è la condivisione Ciao Ciao darlin Fantastico Pure te Gesù Ti ho Ti ho sempre nominato Sei il mio preferito Sei il mio preferito Gesù Ressere sempre il mio cuore Eh ma madonna Puttana Oddio Scordovio Matilde Porco Dio Porco Dio No scusami Gesù scusami Scusami Eh puoi giocare Ovvio che puoi giocare Ovvio cucciolo Comunque c'è discord Ovvio raga Punta schiamate un discord Punta schiamate un discord raga Porco Cosa scusami Ma comunque Vendicatore c'è ancora Vero che c'è vendicatore Guarda Guarda un secondo DM di discord Eh cazzo Ma non ho un secondo Non ho un secondo Non ho un secondo telefono Cazzo Eh raga Non ce l'ho un secondo telefono Grazie broderino Grazie broderino Per l'iscrizione Grazie Grazie cucciolo Chi è che mi ha followato Aspetta Chi è che si è scritto Grazie kebab Grazie baby Grazie baby Aspettate raga un secondo Raga un secondo Un secondo Un secondo Secondo che raga discord Allora un attimo Ma vendicatore Non ti vedo Tra messaggio Non vedo niente Ma come è bannato Da discord Ma come è bannato Da roblox Per terrorismo Cazzo vuol dire Grazie 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 real black Scusami Perché real black No Ovviamente Real white Ovviamente Scherzavo no Qua non siamo razzeschi Grazie cucciolo Grazie 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 Diamo Porco Dai porco No niente Oggi Oggi raga non ce la faccio Veramente Con cipolla Con cipolla Senza cipolla Senza Se non mi abusi Sei gay Tu padre Ti guarda un secondo Se lo dico Quanto peso Due grammi Due grammi Pessi Due grammi e mezzo Avendo letto il commento Due grammi e mezzo Sono stato Roblox Perché sono Razzista Ma raga Ma come è possibile Ti ricordi Il segno No 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 Infatti Stefano Mi dissocio Da quello Io mi dissocio Devevo far sentire La nostra supremazia Gatto Il tuo super Cazzo Che supremazia Comunque raga Come mi chiamo su Twitch Mi chiamo Tom M2 Rukan Mi chiamo Tom M2 Allora Ah perché si è scritto Meno Meno 4.000 scinti gemme Perché Google Mi ha richiesto Raga Un rimborso Non l'ho fatto Io raga Un rimborso Me l'ha fatto Google Perché hanno Hanno un po' la mamma Che vanno a lavorare In intangenziale Perché c'è una mamma Che va a lavorare In intangenziale Io cos'è che ci posso fare Che cos'è che ci posso fare Se c'hanno indipendenti Che Che purtroppo Non c'hanno una vita E si seguono Ogni giorno Che cazzo posso fare Io Se me lo vuoi Se me lo vuoi Grazie Real Grazie baby Grazie per la rosellina Come mi chiamo Sui tuoi chips Non ti dammi le due Ma raga Ma dove cazzo Oh eccolo Ciao baby No non lo voglio il tuo bacino Ciao Giovanna Benvenuti Come stai Come stai Giovanna Come entro Raga Voi basta che Cliccate sul più E mettete il codice Basta che non mettete il codice No Cosa sta succedendo Un sugo mi sta abusando Guarda come non legge Cioè si scrive Ancora Ancora una parola Come un abuso Ti amaro dal mio canale Woof 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 No no Quello Quello è baro Non puoi essere un Un woof woof Non puoi Questo è il vostro Signore Minchia te lo giuro Adesso io vado sul tuo canale YouTube Minchia come ti segnalo Minchia te lo giuro Come ti segnalo Madonna Madonna Minchia te lo giuro Minchia te lo giuro Minchia te lo giuro Come ti segnalo Mamma mia Te lo giuro Guarda Minchia te lo giuro Si ma no Ma qualcun altro Che mi pusha Mi chiamo veramente Tomate che puttana Oh madre di dio Della madonna No ma raga Ma non è possibile Veramente Cioè a me raga Non ho parole Bro usciamo insieme Certo Quando Quando è che usciamo Ehm 21 Jigs Quando è che usciamo domani Allora stasera dopo Appena finita la live Alle due e mezza di notte Ci sei Ehm Ah 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 Come sei saltato indietro Adesso sai come ti salto avanti Poi ti salto avanti però Direttamente di faccia però Vedere come ti salto avanti Ehm Tomate perché ci sei sull'horror Ma boh penso Per Mezza Mezza notte Non lo so Per quando Ehm Guarda Michele Guarda come rite Carca dio Ora Ma ora però Con scopata però Perché se no Non te la do La scopata grazie Te la faccio pagare Ehm Gioco anche a Roblox Per fortuna no Oh Un 10800 Cazzo Ho un 10800 Ma me sta manco vedendo raga Oh mica Manco l'escritto raga Manco l'escritto Io un 10800 Manco l'escritto su youtube Oh no Oh no Quello che si scrive Che ragazzi Ce l'ho scopata gratis Da parte mia Ce l'ho scopata da parte mia Baro non mi legge Dici qualcosa No non ti leggo Ah 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 Non ti abuso Ciao Gregorio Ciao Maria mia Come stai? Ciao Lassimo Ciao Cucciolo Come stai? Dobbiamo facciare un party Io te Zero E te Ma Ah 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 Ma un Un party notturno Ah 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 Perché mo devo Devo andare Adesso io farei un salto più tardi Se Se mi da più l'ora Va bene va bene Va bene vendicatore Un abuso notturno Ma se io già muoio Alle due di notte Ma che cosa vuoi fare Sogo? Ma se io muoio Alle due di notte Muoio Metto clax Ok aspetta un attimo Che metto clax Un secondo Raga un secondo Che vi metto clax Un attimo Un attimo Adesso raga Vi metto clax Un attimo Devo trovarlo Eccolo clax Clax Ma da quando Ti sei trasformato in donna? È proprio Che bella che sei Sei proprio bella Comunque Posso vedere però L'era ovvio Ecco Liliana Sono andato Un po' troppo veloce Raga Ma quanto sei caldo? Da 1 a 100? 104 104 calore Urla di meno Massimo Ma questo Non sto manco urlando tanto Non sto urlando Perché c'è mal di pancia Figurati quando urlo Ma ti pare che sto urlando? Sto assolutamente urlando Allora Comunque raga Dopo Tommy ammettilo Anche hai la coca Nascosta Tutta la canotta Assolutamente Assolutamente Comunque Questa rosa È per stasera Ma grazie Buona Grazie Però io ti do una rosa Aspetta un attimo Ti do la rosa Aspetta Aspetta Io non ti do la rosa Ma io ti do questo Aspetta Aspetta Quanto ti do Aspetta un attimo Raga arrivo subito Un secondo Un secondo Un secondo Un secondo raga Aspetta 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 Un secondo Un secondo Che ti do questo Oppala È acustico No Qual è tuo padre? Qual è tuo padre? Eh Tuo padre che Che ho visto oggi Che faceva Ero pure salutato Pure salutato Eh Allora Io invece Io invece baby Ti regalo questo Insieme dentro una rosa Ti regalo questo qua Ti regalo Grazie Per l'iscrizione Grazie Grazie Cucciolo Ma che è che c'è scritto? Togli gli occhiali E scopa di meno Grazie 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 Cucciola Grazie per l'iscrizione Vediamo Togli gli occhiali Guarda la cam Senza ridere Ma assolutamente No Mi fai vedere Il problema Che ti manca? Raga È Cordelius Praticamente Me ne mancano Mancano 25 Non posso Cioparlo Non posso Cioparlo Non posso Niente Niente raga Tre rose No Che dopo Samuele Mi emozionerò No Che dopo Samuele Mi emozionerò Oh grazie Di niente Di niente Bebi Comunque Come stai Cucciolo Tammosa 5 gemme Per cordelis Simpanio Che sei Minchia Questo GX È veramente No dai Ma non rompere il cazzo Ma non è un cazzo Minchia 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 Spacco tutto Minchia Madonna Puttana Maggiala Troia Veramente Quanto Te lo giuro Tua madre Te lo infilava Da piccolo Te lo infilava Da piccolo E sei cresciuto Con la testa storta Sei cresciuto Sei cresciuto Con la testa storta Te lo giuro Con la testa storta Sei cresciuto Madonna Puttana Maggiala Con la testa storta Guarda Guarda C'è C'è raga Ma Mi ha fatto rompere Pure l'auricolare Mi ha fatto Mi ha fatto rompere Pure l'auricolare No io non ho parole Cioè non sento più D'anauricolare Incredibile Cugliela Madonna Cioè raga Non sento più D'anauricolare Non sento Non sento più D'anauricolare No Incredibile Bello 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 GX Passerotto Sai un passerotto Dove te lo devi infilare Uno nel culo Non ha la bocca Uno nel culo Non è la bocca Te lo devi infilare No raga Non sento più un cazzo Un euro su Shane No 5 euro Non sento più un cazzo Ciao Tenda Come stai? Come sto? Tutto bene Le cuffie sono rotte Le cuffie sono rotte Non sento più un cazzo Non sento più un cazzo Buono Sì raga Qua si ride perché Chiassano sei bestemmio Guarda Sei bestemmio ragazzi Sei bestemmio alla fine del mondo Sei bestemmio raga Alla fine del mondo Eh io raga Non sento più Come cazzo faccio? Come cazzo faccio raga adesso? Non sento più Non sento più Aggorati iscritti Oh Oh Si Ma via solo No con un barbone Un barbone e un mezzo tenisino Prepariamo la carbonella ogni giorno Sì ma noi andiamo a rubare All'euro spin Perché tanto non ci scoprono Andiamo a rubare e dopo che abbiamo rubato Niente Poi andiamo a cucinare in mezzo alla strada Ecco così vivo Infilati le casse nel cervello No no Elvis Utilizzo il tuo cervello Tutto il cervello bevito Comunque grazie Grazie cucciolo per altre sei cose Grazie baby Raga cosa posso utilizzare come cuffie Cosa posso utilizzare come cuffie Bella domanda Cosa cazzotto come cuffie Allora vediamo un attimo Fatemi pensare Fatemi pensare Non siete buon cazzo Bello Siete buon cazzo raga Ci sono rotte No vabbè io non ho parole Io non ho Io raga non ho parole Ma posso utilizzare raga le buds Le posso utilizzare in qualche modo Le galaxy bud come suono E come microfono utilizzo il E il broietti Non lo so però Mi da problemi Paura che mi crasha tutto Raga paura che mi crasha tutto Paura che mi crasha tutto A fuori ci sono staccate No 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 Ragazzi sono rotte Ragazzi sono rotte Ci sono letteralmente rotte Guardate qua Aspettate Godo Godi godi Adesso vinco lì adesso Così almeno vediamo se godi ancora Di cazzo Purtroppo raga No no raga Si è staccato proprio Cioè guardate qua che bello Guardate che bello Eccolo grande Oh Oppala Wow Che bellezza Questa si che è una bellezza Questa si che Fantastic Vaffanculo Che è di merda Raga provo ad utilizzare le buds Spero che comunque mi sentite bene Cioè mi sentite bene Che vado tutto bene Mi date 5 secondi 5 secondi che arrivo No quelle grandi Perché deformano il cranio Beh adesso ricordare Ti piacciono vero Dopo le stacco Ti do quello sinistro Cos'è che mi dai quello sinistro La palla La palla sinistra Ma palla destra Picchia l'armadio No no Mi picchio da solo Allora Raga lo dico un secondo Arrivo subito Ma noi ti sentiamo lo stesso Senza cuffie No no lo so Lo so No va io il problema Che non sento niente Non sento un cazzo di audio Raga non sento niente di audio Purtroppo Cioè quindi io non so se Non so La mia voce Non sento niente Comunque raga si Faccio L'ultimo game Raga faccio l'ultimo game E poi Andiamo su fortnite E poi raga andiamo su fortnite Andiamo su fortnite Cos'è almeno potete entrare tutti Potete entrare Che cos'è che vogliamo fare Sopravvivenza Footbrawl Cos'è che vogliamo fare raga L'ultimo game Ditemi un attimo Un attimo Che voglio Che voglio Oddio Ragazzi Oddio Oddio Cosa vogliamo fare Cuccioli Ditemi Sopravvivenza ancora L'ultimo game Allora Quanti anni ho? 8 anni 8 anni Mi sta crescendo Anche il Nono Arraffagemme Abbiamo fatto Arraffagemme Abbiamo fatto Arraffagemme Ciao Buca Io se fossi Se fossi io ti inculerei Oh ecco Buzz No no Buzz bro Non qui però Cristo Anentamento Arraffagemme Arraffagemme Che porca puttana No Non bestemmi Capito Giocare Come faccio a giocare con te Basta che entri nel gruppo Vivi Vogliamo fare Arraffagemme Ragazzi Tanti di voi Mi dicono Arraffagemme Tanti di voi Mi dicono Arraffagemme Allora Grazie mille Per non avermi ringraziato Nuna una volta Per le rose che donato Ma manco visto Cazzo Ma 9 rose Le rose hai donato Le nove rose Ma chi è che te ne ho accorto Ma quant'è che le avevi donate Queste nuove rose Quanta che le hai donate Manco l'ho visto Ma figa Ma manco l'ho visto Acribio Ma manco l'ho visto Ma non l'ho visto Manco Perché non sento le cuffie Perché non sento le cuffie Ma? Allora Un attimo Qua raga c'è un problema Qua c'è un problema C'è un grosso problema Io non sento Puttana troia Maledetta Non sento Grazie Yousef Grazie per le dieci rose Grazie Ragazzi A Davide Gli piace Il cazzo 50 centimetri Quindi se qualcuno Raga ce l'ha Basta che Gli lo mettete In testa In bocca Dove volete voi Tanto lui Preferisce Tutte le direzioni E ve lo fa gratis Anzi Ve lo fa gratis Pure più 50 euro Io vi ricordo Se volete Mi raccomando Quelli che sono su Su tiktok E su twitch Mi raccomando Ciao son Ciao baby Nell'unico live Croce C'è ma con Gesù Ci abbiamo Il mio youtube preferito Grazie Cucciola Io raga Non sento l'audio Boh Non sento l'audio Non so perché Non so come Come risolvere Sto fatto Sono scarsa Ma stai tranquilla Stai tranquilla Stai tranquilla baby Stai tranquilla Anche se si scarsa Dio di Mi faccio Di scostuma Io ho letto Di fucili Dio Dio pieno di fucili C'è un milione A leggere Dio Quanti Proprio Che posso vedere Perché non vedo La chat di youtube Che raga Si aggiorna Niente E' pazzesco Ho bugato tutto Raga Ho bugato tutto Ho bugato Raga Ho bugato tutto Dio smerdato addosso Oh no Ok Ho veduto tutto Raga Ho veduto tutto Niente Ho superato Perché io non sento Cristo Per quale motivo Io non sento Stai tutto bene Rukan Ma raga Io non sento Dalle cufe Però Non sento Letteralmente Non sento Raga Dalle cuffie Non so come Cazzo fare Qualche Qualche consiglio Qualche consiglio Raga Come cazzo fare Boh Non sento Non sento Quanti anni ho Purtroppo Sono 18 Sono troppo vecchio Questo non lo so E Ale Come facci ad utilizzare Il Il bluietti Sentire dalle cuffie Non sento C'è il banno Adesso No 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 Qua c'è qualche modo Raga Qualche modo c'è Dai Come faccio Come cazzo faccio Dai qualcuno Su tiktok Che lo sa Qualcuno Qualche Qualcuno Su anche su tiktok Che lo sa Qualcuno Che mi può dare Una mano Come faccio Ad utilizzare Il bluietti E le cuffie esterne Non collegate No me lo fa fare No raga Non mi dite Che non me lo fa fare Dai Non mi dite Che non me lo fa fare Ciao Ciao Come stai Metto la password No no Lui non usa Streamlabs Lui non usa Streamlabs Purtroppo Magari Eh Devo vedere Tra i diffugitivi Raga Devo vedere Tra i diffugitivi Niente Gestione dei dispositivi Devo vedere io Devo vedere raga Tra i diffugitivi Bene Let's go Gioco a fortinet Yes raga Adesso giochiamo Subito a fortinet Eh Devo trovare Un attimo Solo una soluzione Per vedere Se raga Sento Non sento Boh Un po' io lo sento L'audio Ma non lo sento Sul pc Madre maria Grazie God Se di tu Si può bestemmiare God Se di tu Ti posso Accavannare Ok io raga Vi voglio bene Vi voglio bene Tutti quanti E adesso Andiamo su Ok E adesso Andiamo Gucciali Su Fortnite Let's go Quanto sono Di ranked Faccio Caccare Il ranked Faccio Ragnar Ma le cuffie Bluetooth Si Panta Sono le cuffie Della Samsung Le Le Buzz 2 Non so se posso Collegare Le Le auricolari Cioè Le cuffie Della Della Samsung E utilizzare Il microfono Per Quello Della streaming Che sto usando Adesso Non so come Cazzo fare Se ci può Oddio Tommy Da quant'è Che non ti vede Saranno due anni E Cacuccialo Come stai Adesso Andiamo su Fortnite Adesso Andiamo su Fortnite Quindi mi raccomando Vi voglio in tanti Io sono un Molto scarso Ragnar Ti voglio bene Buonavotte Io ti voglio bene Alex Qua raga Non si sta Giornando ancora Non so come Cazzo fare Raga Io non sento niente Sono gay Non sapevo Solt Ciao baby Ciao Soltina Come stai Come mi chiamo Su Twitch Ytt Tommene 2 Raga Ytt Tommene 2 Chiunque entra su Twitch Io la saluto Chiunque entra su Twitch Ovvio anche lo ringrazio pure E ovviamente anche chiunque Resta Da Da Tiktok Viene su YouTube Io raga Lo ringrazio Io ti seguo Su Grazie baby Però io raga Non sento voi Ma io non Come cazzo Lai con le Con ste cuffie Di merda Devo capire come fare Microfono connesso Audio No io non voglio Microfono Devo collegare solo L'audio Fa così caldo da te Si fa così caldo Che se vuoi Adesso mi metto Nudo Mi metto Comunque adesso sta continuando A fare il doblo di Fortnite Cioè adesso sta facendo Il doblo di Fortnite Tattora Poi dire Tattora Vieni qui Aspetta Cos'è che ha scritto BR Sono Jix Spazzolotto Scusa per le cuffie Scusa per le cuffie Ma scusa per le cuffie Ma voi... Ma voi... Ma voi... Le buttanele di pure Di... Di... Ma che cazzo di lì Di... Strazzo Che ride pure Poi c'è questa nuova che ride ancora Pure lui Due persone da bannare qua su tiktok Ok già due persone L'avevo trovato da bannare Mi saluti ciao salvo Ciao cucciolo Come stai 104 macumbe Ok perfetto dopo questo ho bannato assicurato Niente io nemmeno Sto provando raga a cercare una Una soluzione Come mi chiamo su fortnite Tommy ti prego mi puoi bannare Ovvio che ti banno subito Yusef nascondi dal canale Ti banno subito Ciao faccine di merda Ciao amore mio come stai Gioco a fortnite Si un secondo sto facendo l'aggiornamento Grazie Grazie Ti banno Ti banno Subito Ma insomma subito adesso ti banno Va bene Che madonna Subito ti banno Ma vuoi il banno diretto O vuoi il banno Dopo alla fine della live No lo vuoi il banno Grazie cuoricino che condivise la live Io ti amo cuoricino Ok l'ho fatto Bravo Avviato raga bravo Che cucciolo Banno diretto Vabbè Yusef Atta 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 l'ho dato subito Mi mangio delle Delle Noccioline E ti guardo E anche a me qualche nocciolina Grazie Anche a me qualche nocciolina Perché se no Pure te ti banno Bandeletto Oh E' perfetto Oh E che cazzo Ma perché bagna la gente a caso Ti banno pure te Ti banno E' pure te Poi te ti banno Andre Oh Perfetto Pure Andre Vole essere bannato Oh A posto Fetto Aspetta un attimo Oh A posto Mi banni Ovvio Biar Ovvio Perché ti banno Ti banno pure te Ti banno Banniamo tutti Banniamo Banniamo tutti Facciamo una strage Facciamo Facciamo una strage Tutti bannati Ragazzi purtroppo Andre Non ha ancora capito L'ironia Andre Ragazzi Ha capito L'eroi Ha capito L'eroina Ha capito Ha capito L'eroina Oh guarda Oh eccolo Sembro io ragazzi La prima La prima mattina Ragazzi sono io Di prima mattina Sono Tutti bannati Tutti banniamo Tutti Ciao bellissimi Non mi sento Che bello Ciao Cooper Non ti sento Ciao Mero Non ti sento Ciao Zola Non ti sento Voi mi sentite Ma io non vi sento voi Ottimo Ma come Che bello ragazzi Che bello Io non vi sento a voi Purtroppo Allora ma se io faccio Tipo audio E raga Faccio Minchia che brutto Non sentirvi Allora Dispositivo di audio D'uscita Oh un attimo Cuffie Pubblico Cuffie Per tutto Ciao Tom Fermi Fermi Ciao Tom Buds 2 Pro Di Thomas Ho provato a parlare Cazzo Mi sento Da Fortnite Let's go Vi sento No scusami Scusami Oh vi sento Oh tramite le cuffie Bluetooth Vi sento Bellissimo Quanti anni ho Cinque e mezzo Domani ne faccio sei Ciao baby Tommy 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 Sto a pisciare Su Dottor Bavaro Comunque Ogni Come ogni volta Cooper Minchia Non No io non sento un cazzo Ragazzi No io non sento No no io raga Non sento un cazzo Non sento No 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 Mi stanno implodendo le cuffie No mi stanno Mi stanno implodendo le cuffie No 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 Porco Dio Porco Dio Mi stanno implodendo le cuffie Non sento un cazzo Un cazzo Quanti anni ho Comunque cinque anni e mezzo Sei Lui non ha capito L'eroina Ma se la fa Lui ce la fa direttamente Lui quello non ha capito Ma le cuffie No no le cuffie Si sente BR si sente Si sente Ma il problema è che Si sente tipo un rimbombo Sai quando senti discoteca Anche in questo momento Sente Eh Sente un cazzo Sente solo un rimbombo Si sente La discoteca Si sente Le mie cuffie Guarda guarda Ecco 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 guarda Neanche il tempo Guarda Oh Neanche il tempo Di mettere le cuffie BR già non si sente un cazzo Non si sente più un cazzo Non si sente No 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 raga Io non sento un cazzo Io ve lo giuro Giuro C'ho le cuffie Bluetooth E non sento una minchia No no raga Io non sento Non sento una minchia Non sento No raga Io non sento veramente Una minchia Io ve lo giuro Mi pare che hai una skin Subito Adesso Federico Te la mando adesso Aspetta un attimo Ma su tiktok Non si vede Minchia su tiktok Non si vede Un attimo Comunque Voi come No 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 Ti prego non urlare Porca madonna Per favore Puffo Puffo Non sento un cazzo Puffo Ah no scusami Puffo scusami Non riesco a riconoscere le voci No no scusami Minchia adesso Minchia adesso Mero io te lo giuro Banno Minchia adesso Mero io te lo giuro Minchia adesso Adesso Minchia adesso Ti balla Te lo giuro Minchia adesso Ti Adesso ti faccio un banner Permanente Adesso Accettami Ok Va bene Va bene Allora ti banno Tanto importante Che ci occupa Comunque Stavo dicendo Allora Comunque Tommy Nico Raga Tommy Tommy Nico Sarai fortunato di oggi Che lo rimuoviamo dagli amici Vaffanculo Leonardo Questo non lo conosco Non lo conosco manco più Fuori dal cazzo Bruno Ippo Ippo Ciao Ippo Ippo Ciao Ippopotamo Fuori dal cazzo Checco Barbone Ecco Fuori dal cazzo Ciao Bruno Barbieri Bruno Barbieri di Masterchef Ciao baby Ok a posto Potete entrare tutti Non si vede? No adesso si vede Per la sburrazione Grazie Ehm Quanto Ciao Gabriella Mi stai Comunque raga Ma No baby Comunque raga Una domanda Una domanda Una domanda Ma com'è che si sente Si sente uguale Ehm O si sente diverso Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo No no raga Un attimo Devo capire un secondo Devo capire un secondo Ma si sente uguale O no? Ma si sente uguale O Hai cambiato qualcosa Perché non so Se avendo collegato L'epocaluffi Forse Si sente L'audio delle guffe No Oh ma io l'ho capito Cazzo Porco di No no Ragazzi Ma il mal di testo No Non ce la puoi fare La domanda Non puoi fare La domanda Il coro Fanno Il coro Facciamo Tommy 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 No Però che non ci scrivi nessuno Cos'è a meno Non si sente No Si vabbè Mò è entrato Mò è entrato ragazzi Il bambino speciale È entrato È entrato Il bambino veramente Adesso lo banno dal canale No 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 Aspetta un attimo Aspetta Aspetta Tua madre Ti avrà picchiato da piccolo Da madre Tua madre Ti avrà picchiato da piccolo Adesso la cambio Adesso la cambio Adesso la cambio Comunque Ciao Cucci Benvenuti in live Grazie Grazie Per la condivisione Si L'ha picchiato Tantissimo L'ha picchiato Quel bastardo Di merda No raga Io giuro Non sento un cazzo No Io non sento un cazzo Ragazzi Giu Oh Quel bastardo Di tuo padre Oddio Chi ha sburracchiato No raga Non sento un cazzo Veramente Io raga Non sento un cazzo C'è troppo casino C'è troppo casino Mi puoi fare un regalo Su fortnite Enrico Se usi il mio supporto Un cattore Tammeli due Si Già non senti Ma no no Ma già Sento rimbombo Non sento un cazzo Già Sei inutile come il sale Che adesso Vuoi vedere che vengo lì Adesso Nick Vuoi vedere che adesso Vengo lì Vengo lì Raga mettete pronto Per favore Mettete pronto Mettete pronto Minchia raga Non sento un cazzo Giuro Ok Eccomi 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 Ci sono Ci sono Ci sono ragazzi Ci sono Ci sono Ma il sale È utile No te lo provo Mi dire Stai cittadino Fammi vedere Lo shop PLS Fammi vedere Lo shop PLS No Grazie Manu Grazie per avermelo detto Grazie Manu Allora Un secondo Negozio Negozio ragazzi Zoro Se lo metti pronto In tutti i secondi Ti spello Andiamo Ok perfetto Fuori dal cazzo A posto Fuori dal cazzo Niente Mi Certo non giuro Adesso Mi spedio Mi chiede Lo giuro Lo ripeti ancora Io te lo giuro Mi chiede Mi chiede Comunque 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 Grazie Grazie Bruderino E lo so che Te hai il cuascio Lung Tipo Dottor Bavaro Tipo Dottor Bavaro Ciao Cazzo Cazzo Come stai Tommi 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 No, no, Cooper, 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 posso bannarlo, Cooper? Che se non giuro, minchia! Minchia, se non giuro, minchia, minchia! Oddio, la madonna! Oh, sta minchia! Esattamente. Ma su quante piattaforme stai? Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, TikTok, Kik, Twitter, Casa di Cooper, poi Musical.ly, sono su Musical.ly, sono su Musical.ly, sono su Allifans, e poi sono su... sono su Pornhub, XNXX, ha implementato da poco le live, quindi sono pure là, e quindi siamo a 15 piattaforme. Quale, quale? Eppure nei diversi casino sono pure là, in live. Io cane. Dimmi, baby, dimmi, baby. No, eh. Sì, insieme a me, però. Te insieme a me. Comunque. No, 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 ovviamente no. Le facciamo, Le. Comunque. Suppone, Olli, c'è tua madre. No, no, c'è... C'è tuo zio. Ivan, Ivan, Ivan. Ivan, là c'è tuo padre. C'è tuo zio, tuo padre, tuo cugino, tuo fratello. Aspetta un attimo. Tuo fratello, tuo cugino. Allora, comunque... Orca da roi. No, dai, uccano, dai, non pensi meno, dai. No, dai, per fuori, non andiamo così, se no mi offendo, dai. Grazie. No, dai, mi stai, dai. Non mi pianto, dai! No, ragazzi, mi dissocio. Oh, ragazzi, se no devo disattivare la certa vocale. No, 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 no. Shh. No, zitto, zitto, stai zitto. Meno sei zitto, vero? Ma come manco li sentiamo? Ma Ale, ma si sente, Ale? Ma Ale, ma si sentono tutti? No, no, tuo padre è un bastardo, tuo padre. Tuo padre chissà quando ha picchiato da piccolo. No, 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 tuo padre è un bastardo, tuo padre è un bastardo, tuo padre chissà quando l'ha picchiato da piccolo. No, 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 tuo padre è un bastardo da piccolo. No, 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 tuo padre è un bastardo da piccolo. Ma non si sentono veramente, non si sentono, Ale? Ale, ma non si sentono veramente? Non si sentono, Ale. Ma come non si sentono? Non si sentono, Ale. Ma come non si sentono? Ma come non si sentono? Non si sentono... Non si sente l'audio? Non si sentono... Non si sente l'audio? Porca puttana Ma come raga non si sente Ma come raga non si sente Anche TikTok adesso Comunque Se me l'hai consigliata Si comunque Sono su TikTok E se comunque il mio pc me lo promette Finchè Non esplodo Io Lo so Ma Nova non si è sentito vero Vero che Nova non si è sentito Non si è sentito vero Non si è sentito quello che ha detto Scusa però no ma stai tranquillo Ti voglio bene Ti voglio bene Ivan lo sai baby Ma raga ma si è sentito quello che ha detto Si sente l'audio del gioco Ma raga io non lo so Si sente l'audio del gioco Non si sente un cazzo Non si sente l'audio del gioco No Crevio Oh cazzo Cazzo Allora Ditemi se si sente l'audio di Di gioco Raga adesso Ditemi per favore No aspettate un attimo Ancora su TikTok neanche Un attimo Un attimo eh Un attimo Adesso si sente eh Adesso Adesso Su YouTube Su YouTube Su YouTube Bu Bu Si Si sente l'audio di tutto Ah posso ok No raga Mi dissocio dai Si è sentito lo sparo Forse devo un po' aumentare l'audio Forse devo aumentare un po' l'audio Adesso raga ve lo alzo Ve lo alzo io tutti Ok adesso dovrebbe essere perfetto Adesso dovrebbe essere perfetto Adesso dovrebbe essere perfetto Adesso dovrebbe essere perfetto Ci dovrebbe sentire l'audio Ci dovrebbe sentire l'audio Olè Ottimo Let's go Let's go Il gioco lo sentiamo Non sentiamo te Mi chiede sui cucolini adesso Una puttana Su Twitch Su Twitch raga non sa fare Mi raccomando vi consiglio Mi raccomando di venire su Twitch se volete Ciao Simon Grazie Simon Un bacino Allora comunque Un attimo Bella canottiera Grazie baby ti metto incinto Ti metto incinto Giacinto Astrolopitico Ok perfetto E poi vieni bannato perfetto Col ban Ciao baby No Posso attivare la chatte vocale raga No io non posso attivare la chatte vocale raga Ci sono alcuni Alcuni di mente un secondo Raga c'è gente che C'è certa gente che raga non Non si può lasciare attiva Assolutamente no Assolutamente no raga Ne è muto tutti Aspettate Adesso Adesso ci sono Mi sentite Ma che ti ha senso Ma che ti conosci a te Canottiera da camionista Ma te hai detto Cosa è la canottiera da camionista Capito? Di merda Da quanto sono spazzici Non mi fiderei Certa gente no 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 ma Cooper 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 No 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 Di loro mi posso fidare Anche di alt Alt F4 Anche alt F4 Perché è un bravo bimbo Giusto alt F4 Giusto che sono un bravo bimbo E degli altri che sono spazzici Guarda quelli là che non hanno amicizia Sono spazzici E non Meglio che non accetto amicizia Finchè non so che sono Sono nostri No no Yusef Te ti sento Se parli ti ti sento Raga sento tutti Senti No no raga Io ho messo solo amici Ho messo solo amici Anche non mi fido A mettere tutti e due Tutti quanti Porco No te ti sento Yusef Ad un zio No te ti sento Yusef Te ti sento Comunque benvenuti Tutti quanti quelli che sono in live Ciao cuccioli Vieni qua baby Porco dio Un canale partita Niente Che te l'ha Niente Cioè mi hanno incolato Mi hanno incolato Se stronzi Bravo bravo Balla bravo 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 Balla Iri di merda Io sono morto Danna di caduta Vai Cooper vai baby Vai baby Parla da poco vado a dormire No non ti permette Io uso il codice creatore Grazie cucciolo Raga Se volete ti rispondi Utilizzare il mio codice creatore Di fallorto In secret home e le due In tal caso non si sa mai Cos'è ma Anzi io non ve l'ho detto Ve lo dico adesso raga Mi dedichi la partita Cooper Vieni canale della partita Io vengo nel canale della partita Ma ci sono tutti qua Allora Allora adesso raga io vi dico Quanto c'ho Tanto Tanto me lo possono anche raga Togliere il supporto a un creatore Ormai non ci guadagno più niente Cioè se voi mi supportate In tal caso Ma niente Ve lo dico lo stesso Allora Epic Games Supporta un creatore Cioè vi dico di preciso Quanti soldi ci ha bloccati In questo momento Quanti soldi ha bloccato Adesso ve lo dico Adesso ve lo dico Io dormo al luna Bravo Erkan Ah supporta un creatore Allora in teoria non si può dire Raga in teoria non si può dire Però io comunque Io ve lo dico lo stesso Io ve lo dico lo stesso Io ve lo dico lo stesso Fa niente E' un cazzo Un attimo Un attimo The music Pum Dai Allora Informo di Dottor Babago Anche su Bro Stars Ho il supporto a un creatore Magari No Magari Ma se non fallito su Bro Stars Non Non me lo daranno mai Il supporto a un creatore Di Bro Stars Anzi non ce l'avrò mai Proprio Diverso Ma diverso Spuffo 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 User E' scoperto Ma chi è user Cosa baby Cosa baby E' user Ma insultato Perché fumo No no dai No no Non dillo a nessuno No Non dillo a nessuno Che fumo Non dillo a nessuno Dai per favore No no Tu fumi No dai No 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 non dillo Dai per favore Dai No dai Dai Non dillo a nessuno Che fumo Dai per favore Sennò i miei gentili Dopo mi picchiano Dai dai Non dillo a fatto Sto favore Ma non solo Che fessi a te Grazie Mi abitiamo Grazie amore No no Shhh Shhh Dillo a capellino mio Segreto svelato No 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 va Non lo dirà nessuno Dai per favore Dopo mia mamma Mi picchia Dai Dai per favore Non me lo dillo Dai Non so Mia mamma Mi picchia Dai Per favore Per favore Oh raga Oddio Allora in questo momento Te sai che io Allora raga Io in questo momento Vi dico la verità Io raga Io in totale Da fortnite Ho guadagnato Quattrocentosettantadue Dollari Io da fortnite Quattrocentosettantadue dollari E il mio ultimo pagamento Che mi hanno fatto È stato il 16 novembre Del 2022 Che è stato di 121 dollari 121 dollari Due anni fa Ah 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 Dai Baby Games Stai segnalatemi adesso Dai tagliami il cariciclatore Ah 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 Coglio di merda 121 dollari 121 dollari 121 dollari Ah 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 121 dollari Il 16 novembre Oh no 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 Tua mamma No 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 Tua mamma Ciao simona Ciao qui so Dimmi Dai è che sei Bro è cittocratos In cosa è che cittocratos No Non gira nessuno Dai per favore No 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 Dai dai Il mio nome è picchio Dai Dai per favore Dai Veramente Ti do Ti do Un v-back Dai Ti do un v-back Per favore Ti do Due v-back Ti do Dai Dai Cooper Per favore Dai Dai Cooper Cooper Scopriamo stasera Cooper dai Dai Cooper Scopriamo stasera Però non dire Dai Ma che mi hai chiamato Scooper Ma bombiamoci No Scooper Ma fumi No 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 le mamme Qua le mamme Puttana Eeeh No cosa E' appena uscita Le viaggioco No no Cazzate Cazzate Sta drollando Che ha che Insulta la madre Chi 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 Aspetta 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 un attimo Adesso lo spedio Un secondo Non le puzza culette No comunque ragazzi Io non fumo 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 Ma mamma mia quanto potrebbe avere la mamma zuccoletta Aspetta un attimo lo spell Dimmi un attimo Dai un secondo Non lo spell Lo stavo a distrugge noi A sti due Lo stavo a distrugge Non lo spell Aspetta un attimo Amerigo ma quanti anni hai Amerigo Amerigo ma quanti anni hai Due e mezzo Quasi tre No io però ragazzi No no Prendiamoci un distante ragazzi Un secondo Non lo so Ma ragazzi Ma chi sono sti mogoli Scusatemi Chi sono sti Ragazzi Ma questi Oh madre Santissima ragazzi Mamma mia Venite in l'u paese nostro Poi venite Spaccamo a capoccia Oh Che cazzo Diggielo No ma ragazzi No no Lì è fuori dal cazzo Lì è fuori dai coglioni Fuori dai coglioni Ma questo sciva Questo sciva Deveva fare Lì è fuori Questo sciva No no Comunque ragazzi Io non fumo Io raga Non fumo Io non fumo Io ragazzi non fumo Ma ancora che sono entrati Oh mamma mia Cos'è Ma chi è che devo spellere Ma chi è che devo spellere Ma chi è che devo spellere Ma poi soprattutto Chi è che lo invita Ma chi è che lo invita Comunque ragazzi Veramente Ma se ho sentito Che stava dicendo Cosa Stava dicendo Comunque Ovviamente ci risusciamo Ovviamente ci risusciamo Ciao baby Ciao baby Ovvio ovvio che ti sento Cucciola Tutto in bocca Quella scuola Che è? E' Sammy No scusami No scusami No scusami No scusami Eh ma io l'ho bloccato Per sicurezza L'ho bloccato Per sicurezza Comunque Io ringrazio No comunque raga Veramente Io oggi Aspetta Ok Ok Oggi raga Veramente Oggi La live Oggi non Me la sento Molto meno attiva Me la sento Molto meno attiva Perché raga Non riesco a farla Non riesco a farla Come mi piace a me Vabbè purtroppo raga Anche senza cuffie No 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 Non è per quello E' perché fra Non riesco a quelli Auricolari Di solito sono abituato A quelli auricolari Con queste cuffie E tutto quanto Un altro mondo Cioè come se sono Rinchiuso tutto quanto Mi sbomba tutto Basta chill Tanto le tue live Sono sempre belle Grazie baby Sento Tendo tutto quanto Raga Rai immombato Ve lo giuro Ai 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 Che dolore Tommy Hanno atterrato Cooper Hanno atterrato Cooper Aspetta Aspetta No Cooper Ok raga No raga ve lo giuro Mamma mia Che cazzo Di Suss E' schivetta E' cinesino Cinesino tre ore via Cinesino tre ore via Ma raga scusate Ma io gli avvisi li sento Fatemi vedere un attimo Grazie Grazie cinesino 3 ore via no no ma domani alle domani alle faccio l'ordine tramite del libro direttamente no no sennò veramente no domani vado direttamente tramite da un cinese vado direttamente a un cinese domani e dico io per favore darmi la cuffia 5 euro 5 euro 3 3 euro sconto 3 euro sconto va a chi è tutto no enrico non posso cucciolo non posso muore mio no american capoverino cavolo grazie no grazie per riduzione grazie no comunque in teoria lo sento il coso lo sento l'audio si si lo sento lo sento raga lo sento l'audio torno 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 grazie broderino grazie per iscrizione grazie no questo fine settimana sono di sbrughe ho sbrusi? ho sbrusi? ti hai sbruso? conosci roblox purtroppo ciao mare mio grazie broderino per iscrizione grazie broderino per iscrizione grazie 2 per iscrizione conosco roblox purtroppo raga purtroppo roblox io conosco mi hanno saltato in 40 per roblox mi hanno saltato in 40 per roblox io gli banno faccio il banno in instantaneo faccio allora comunque il ban parlano oggi in ragane no il ban è permanente La canzone per l'iscrizione È come una coca Quindi è una cosa Una cosa fantastica Ale Mi stai dicendo È tipo una cosa fantastica Grazie broderino Per l'iscrizione Grazie Eh sì sì è una coca Attirala tutti quanti Attirala tutti quanti Ale Chi è che non attira la mia La Il mio avviso Oh eccolo Grazie broderino Per l'iscrizione Grazie Grazie Ma cosa 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 Ma ma Raga ma Porco dio Bravo Che bravo Che bravo devi che sei Ma a me non mi banno No ma a me non mi banno No no te non ti banno Io ti amo Gioco preferito Nuova Gioco preferito Ah no Tenta Tenta ti banno Dopo questa Dopo questa Ninja Ninja con i punti schiamativi Aspetta Grazie punto schiamativo Punto schiamativo Punto schiamativo Grazie Grazie punto schiamativo Grazie punto schiamativo Per l'iscrizione Raga si legge Esplicitamente Ah no scusate Ho sbagliato Ho sbagliato Scusate Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Ninja Grazie Grazie cucciolo Grazie Grazie Per l'iscrizione Grazie 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 Per l'iscrizione Grazie Oh ma basta Minchia Ho bacato tutto Tiò cane Ho bacato tutto Grazie 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 Ho bacato tutto Grazie Grazie Per l'iscrizione Grazie Ho bacato tutto Ok ci siamo Ci siamo Ci siamo No Era partito 45 volte Era partito 45 volte Oh madonna No 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 Ma ero io ninja Che continuavo a premere Il Ripetere Stavo continuando A premere Il coloro Dell'iscrizione E lui l'ha fatto 45 volte Ciao Sabre Ciao cucciolo No Grazie 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 Per l'iscrizione Grazie No dai Ero io ninja Ero io baby Comunque Grazie cucciolo Grazie per l'iscrizione Cucciolo Ero io giuro Mi seguo Ciao Ciao baby No dai No dai No 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 E' perché Meno la mamma La canzone La canzone è una droga E lo so Infatti piace a tutti quanti Simo Mi piace a tutti quanti Simo Quello è bello A chi A chi Che si scrive Compare quello Si è scritto uno Alla mente Chi è che si è scritto Chi è che si è scritto Ma grazie Ali Aspetta Aspetta Ali Te lo faccio Ricomparire Ali Ti faccio Ricomparire Alert Vi abbiamo perso Grazie broderino Per l'iscrizione Grazie 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 broderino Per l'iscrizione Grazie Aspetta Aspetta Fermi Fermi Che fai dopo Fa Il 70 Sulla Cadilla Tuo Paterino Ti è Ti è Ti è Ti è Ti è Ti è Oh madonna No madonna È stato Trocino Ma ciao Era mio Che fai dopo Grazie Paterino Tu 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 Grazie Facciamo Case Animatronics Un bellissimo È un bellissimo Gioco horror Baby È da Da Bluestacks Ma dopo lo scarichiamo Che a me mi fa Caccare sotto Ciao baby Ciao mare mio No Mio cane Quando Quando vado Quando distruggo Bortnite Quando distruggo Bortnite No lampada Lampada Hai seguito Lost No lampada No lampada No lampada Non può essere Quella lampada Non può Ah no no Non è lampada Scusami Scusami No 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 scusami No scusami Ciao Paki Ciao lampada Ciao lampada Mica no Se mi sii con un'altra volta Ti giuro ti bando E se mi sii con un'altra volta Perché ho un po' La mamma Perché qualcuno La mamma Grazie No Edward Mi 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 No non puoi sentire la mia canzone Sì certo Grazie broderino Per l'iscrizione Grazie Grazie azzurra Grazie broderino Voglio Quello Devo Dedicare Grazie azzurra No dai Grazie broderino Con le ciabatte lunghe Con le ciabatte lunghe Grazie broderino Con cosa lungo? Con le ciabatte lunghe Con le ciabatte lunghe Con il cazzo lungo? Con le ciabatte lunghe? No 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 Ti banno No ti banno dal canale? No vedi che ti potrei bannare C'è il cazzo Cos'è che c'hai di lungo? Cos'è che c'hai? Le ciabatte lunghe Le ciabatte C'è il pisellino lungo? No le ciabatte Ah E il pisellino No le ciabatte Ma scusa Se il pisellino è piccolo Come fai? Scusa E qua Cazzo Io pensavo al pisellino Io no No Ma le ciabatte Bro Flexi Ma le ciabatte Ma Gabri Ma se io ti flexo Se io ti flexo il cazzo Così almeno vediamo Come te lo flexo Ma guarda Io ti posso flexare questo Se vuoi Anche se non si vede Grazie broderino Grazie broderino Grazie Grazie Il vero Tommy Ha gli addominali Sai tuo padre cosa c'hai invece? Sai qua c'hai tuo padre? Non c'hai gli addominali No no comunque Ti voglio Togli bene Le ciabatte dei cinesi Domani prendiamo Le ciabatte dei cinesi Oh Twitch Sì sono su Twitch raga No 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 dai no 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 Mannaggia me no Per favore dai No io No eh Per favore Oh il pelo Il pelo? Quale? Del mio cane? O del mio cane? Quale? Quale tipo di pelo? Esatto Proprio quello Proprio quello Tommy Tommy Perché è spregiato? Oh No Oh Dio Sì sono raga Ti ho angolato Eh perché Perché me l'ha detto Me l'ha detto Che stiglia Vedi dal cazzo Eh vedi dal cazzo Comunque su Twitch Non so come si sente Github eh Github eh Non me cagate le bande Ragazzi Broderino Quello sento su YouTube Sembri quello Di cattivissimo Sono io Tommy Che sta più in giro Chi è che sta più in giro Lo banniamo? Oh grazie Oh grazie Però Tommy Banno permanente Banno permanente Ma perché non si sente? Eh boh Oh no no Schiva Parla Grazie ninja Però non si sente un cazzo Schiva Parla Non si sente un cazzo Non si sente Vuole che Tommy parli Ma perché non si sente l'audio Di vabbè Io non ho Guarda Banniamo Schiva Banniamo LFP Grazie cucciolo Grazie per il fuori su TikTok Grazie Pepe Ma perché non si sente l'audio Dio merda Maledetta la madonna Minchia Io lo giuro Minchia Te lo giuro Minchia Come stanno Banniamo tutto Aspetta 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 Sì grazie cucciolo Sei proprio un ragazzo In gambero Te invece sei un gamberetto Invece Eh sì Ma non lo so Te invece sei un gamberetto Diretto sei Parliamo un po' Parliamo un po' Eeeh Il bro non guarda la chat Ma che cazzo Come non guarda la chat Ma che cazzo Sto guardando Cazzo Mi ha preso in giro il nome Mi ha preso in giro il nome Banna per manete Grazie Mi fa incazzare Eeeh Tommy 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 No non ci credo L'altro Tommy Tommy No 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 Non puoi dirmela No Non puoi dirmela Non puoi dirmela No non puoi dirmela No Non puoi dirmela Non puoi dirmela Non puoi dirmela Oh Tommy Oh Mica Te lo giuro Ripeti ancora Tommy Te lo giuro Scusa Non ti arrabbiamelo Ok grazie Se ripetivi ancora Oh Ti posso dire questa cosa Oh Viby Che mi puoi dire tutto quanto Allora Scusa Se non siamo potuti venire prima No basta Fede ti meriti il ban su Twitch Aspetta un attimo Nasconde il canale Schiva Ban diretto Basta Tommy Schiva Ti sento Tommy Oh Tommy Oh Tommy Stai schicta Schiva Mi ha insultato il nome No Devi stare zitto Schiva Mi ha insultato il nome Oh Tommy Mannaggia Non è Che te lo giuro Che te lo giuro Ripeti ancora Tommy Che te lo giuro Che te lo giuro Amico Tommy Dio ladrone No Dio un pezzo di merda Dio Dio un pezzo di merda Veramente Che domani Madonna Crepa Sono stronzo Tommy Tommy Calma Bastardo di Dio Anche di me Bastardo Eeeh A Tommy A Tommy E capito Tu hai capito Tommy 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 entra su Discord Aspetta che entra Tommy Aspetta Adesso faccio entrare a Tommy 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 Ragazzi qualcuno che chiama Tommy Per favore Qualcuno che può chiamare Tommy Per favore Tommy Tommy Ma uscire di casa Ma sono Kri Ma tuo padre Quanto ti ha picchiato da piccolo 1 8 Quanto ti ha picchiato da piccolo 2 C'hai cinque anni e mezzo 2 C'hai cinque anni e mezzo E 3 C'avrai io Un cervello così piccolo Per scrivere questo commento Chissà quanto ti ha picchiato Il bro Aveva il copy in colla Ma stai bene Sì sto benissimo Tommy Sicuramente molto meglio di te Ragazzi sono una persona Lo sapevate Assolutamente no Ma ragazzi Ma perché su TikTok Veramente c'è la gente Che non sta bene Sfigate pochi spedatori Si vanno Si vanno Si vanno Adomi Adomi Ad un mezzo Adomi Adi ragazzi Adi ragazzi No no Mi voglio in culare Mi voglio in culare Che è successo Il bro Il bro copia Pialessia Il bro copia Pialessia Ma manco Ancora un po' manco Come cazzo si Si ricorda Pialessia Minchia magari copiare Pialessia Se avrei copiato Pialessia Boh Si è arrivato a A 45 Cioè immagina uno Che mi segue Adesso su TikTok Che ci sono Su 5 anni Praticamente su YouTube E mi dice Stai ricopiando Pialessia Ma dove cazzo è uscito Tom E 012 Ma dove cazzo è uscito Ma sei uscito Il mio buco del culo Ancora un po' Cioè questo Questo mi dice Seriamente Questo mi dice Seriamente Sono uscito Pialessia Non sapendo che Sono da 4 anni Su YouTube Vabbè no Ma Edward Ed è Questo mi fa ridere Chi vota Banna permanente Per schiva Bicchia A me Certa gente Mi fa ridere Devo giuro Banna permanente Per schiva Si Si vede Che proprio Su TikTok C'è veramente Gente che È proprio 020 Alcone Banna permanente A me ragazzi Un secondo Un secondo Un attimo Un attimo Che risolvo qua Aspetta 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 Ah le pene Le do Le do Tuo padre Le do Tuo padre Ah no Cazzo Già la prese Poverino Ha già preso Tuo padre Ha già preso Tuo padre Poverino Porca Travagia A posto Si 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 Dovrebbero lavorare Al circo No ma Già sono al circo È solo che La loro mamma Non lo sa Passano i pericoli Punti dulci Che Io Ma Ti Mi consiglio Cane Si Te la tiro Vai Tutti Bannati Via Fai dal cazzo No va Tutti quanti Bimbi Minchia Che dicono Che dicono Cazzate Anzi Anzi Sai quanti Quanti coglioni Che c'hanno su tiktok No va Cioè C'hanno proprio Gente che Te ne entri Non è che dicono Almeno ciao No Scrivono ciao E poi iniziano a scrivere Le loro cazzate No No Poi entrano sparati Iniziano a dire Ma te sei più Alessia Ma figa Ma sei Sei in atto Con la testa Storta Per dire Una roba Deci C'è Ma incredibile Mamma mia Te lo giuro Ma Cioè io sono da 4 anni Che sono su youtube Che faccio il mio Sto crescendo A modo Dio E questo Sto ricopiando Più Alessia Poi 012 Ricordiamo 012 012 Hai 12 anni 13 anni 12 Ma ti svegli E poi Che poi raga Lo stile Non è proprio Quello di Pialessia Pialessia Fa un altro stile Totalmente Uno stile mio Sono uguale a Pialessia Infatti Ragazzi Se noi sono come Pialessia Adesso facciamo Tomi 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 E poi se sono come Pialessia Io Metterei il titolo Ragazzi Se a 500.000 like Vi esco le mie Le mie palle Adorate A 600.000 like Vi esco quelle di Di Cooper Perché Il mio baby A 700.000 Quelle di Quelle di Mero Sei meglio tu De Pialessia Pialessia Ragazzi Pialessia Lorenzo Uno che scrive Se arriviamo a 500.000 like Se arriviamo a 500.000 like Aspetta 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 un attimo Lorenzo Praticamente Pialessia Una che mette Come titolo Cioè come titolo Come testo sopra Scrive come titolo 5 Sopra la live 500.000 like Vi esco le mie pere Poi io continuo a diventare 600.000 like Vi esco le pere 600.000 like Un milione Due milioni E non è che continua così No Fino a finchè non capisce Finchè Finchè la gente Continua ad essere ricoglionita Continua Continua a mettere like No 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 ovviamente No 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 Non ci dicono queste cose Ma guarda Toglio Ah quella che è il saltello Esatto Ragazzi Ogni 10 rose Faccio un saltello Ragazzi Un altro Altri 5 euro Saltello Ok ragazzi Saltello ancora Saltello ragazzi Ancora Saltello Vero Gabri Vedi Gabri Cazzo Vedi Gabri Comunque Soprchè non te dono più Ho finito i soldi Ma per fortuna Che finite i soldi Ma per fortuna Mi fa eredere E poi C'è uno che non ha 100 rose Oh cazzo Ma ho donato 100 rose 100 saltelli C'è ragazzi Ma ci andiamo contro TikTok TikTok ragazzi Questo TikTok Se io raga metto come titolo sopra Una rosa Un saltello Ricevo tante di quelle rose Che poi posso andare Dal Dal marocchino sotto casa E raga Gli le compro io le rose Gli le devo dare io a lui Gli le devo dare io a lui Ma non gioco più brawl No Guarda con me no Guarda con me no Guarda con me no Guarda con me no Vai provaci No no Evans Evans che dopo dopo C'ho la gente che mi spamma Oh coglione devi saltare Oh coglione Che merda Qui c'ho la gente che mi dice Spammare come delle puttane No 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 Non voglio fare il money grabber Non l'ho mai fatto in 4 anni Non l'ho mai fatto Evans non l'ho mai fatto in 4 anni Tene Tene Turun 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 Yusef Vai balliamo vai Vai balliamo troio vai Vai balliamo Canzone tattica Vai balliamo dai Canzone tattica Aspetta 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 che faccio la canzone tattica No Vaffanculo non la posso più fare Volevo fare una bella canzone tattica No no La devi fatta Fammi dimmi baby Grazie Grazie nice Per le 5 rose Ma ragazzi facciamo come Facciamo come Come all the nice No 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 Raga non sento un cazzo No porco dio ragazzina No non sento un cazzo Dal marocchino Sei un orrore Mi fai paura Ma quello è tuo padre Guarda questo padre Ho il messaggio di merda No Ma perché devi urlare Porco dio E prendo il marocchino Che adesso lo banniamo Quanti fps faccio Caps Boh dipende da Grazie salvatore Grazie nice Vai ragazzi Vai ragazzi Faccio pure io come più Alessia Facciamo come più Alessia Ragazzi Vai saltelliamo 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 come delle puttane Dale saltelle Saltelliamo come delle puttane Saltelliamo come delle puttane Per le rosaline Saltelliamo come delle puttane Saltelliamo come delle puttane Saltelliamo con delle puttane Saltelliamo con delle puttane Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua a tutti quanti Cuccio mi sono rinitinato Quanti mi vuoi avere Per essere moderatore Niente baby Non ho scritto Grazie baby Muah ti amo Quanti fps faccio Boh va Saranno tipo Buona Pasqua a tutti quanti voi Cuccioli Comunque grazie Grazie Bella Ranger Calmati Comunque Per tutti quanti Quelli che sono su TikTok Mi potete confermare No raga Non capisco un cazzo No raga Mi sta venendo mal di testa Basta Muto tutto Allora Devo mutare la ciotta più calda Raga Non sento un cazzo Non sento raga Non sento un cazzo Non sento Buona Pasqua Buona Pasqua Comunque grazie Grazie Franci Grazie Franci Grazie alla Grazie Per il like E grazie BMW Grazie cucciolo Calmati No Raga mi potete confermare Tutte quante le 40 persone Che sono in live Per su TikTok Dei cucciolini Ovviamente siete Raga mi potete dire Oltre Ale Allora a parte Ale Che veramente qua su TikTok Ci sono veramente degli elementi A parte quelli là A parte quelle Quelle cagnacce là Che fanno Ferra 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 Che vabbè Fanno 2000 spettatori E ci fanno un sacco di soldi Solo facendo quello Poi si faranno al minimo 100 euro A sia non di più Con le rose Che stanno tipo da mezzanotte Fino alle 2 3 di notte Non so quando cazzo iniziano Non orare che tardi Scusami 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 Basta 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 No comunque Mi potete confermare Che se si diventano Se si diventa Un elemento su TikTok Poi raga Cioè si iniziano Si iniziano a fare Gli spettatori facili Cioè se te inizia A fare il coglione Su TikTok E ti fai conoscere Come un coglione Cioè la Poi è facile Farsi i soldi O comunque Avere 2-3 mila Spettatori Cosa che io Non voglio fare Cioè Cioè perché se raga Il problema Che poi Cioè C'hai direct Direct TikTok Instagram Se dici il tuo Instagram E tutte cose Che poi raga È impossibile Fare più un cazzo Poi Ma proprio Più un cazzo Grazie Grazie Cuccio Grazie 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 Gabri Grazie Per l'iscrizione Diventa Un elemento No 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 Anas Cioè io potrei Potrei farlo Ma perché Perché devo farlo Comunque No scusami Aldis Quanto devi donare Allora io te lo dico Ma non lo fare Perché non voglio Obbligare Tu donare Io non lo voglio Di solito il moderatore Lo do Se stai live Se stai live Se stai live Te lo do Se non Se lo vuoi Di solito Io Lo faccio fare Agli abbonati Quelli la Gli abbonamenti Di livelli Cioè come cazzo chiama Bestia Bestia di Tommy Però non devi farlo Stai tranquillo Cosa ne penso Delle rose Che saltano Delle Ogni dieci rose Faccio un saltello Così così Vai ragazzi Vai Guarda Scusami Grazie 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 Absolute Grazie Vado da puttare Per le dieci rose Cosa ne penso Penso che veramente Sia uno scandalo Raga Penso che sia veramente Uno scandalo Quel tipo di contenuto La Divertente Ma scandalo No Dove cazzo Puoi andare No Orcu Orcu Cazzo di merda No 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 C'è cazzi No C'è cazzi No No c'è cazzi C'è c Dove volevi andare Scusami Oh porco dio Eh niente A posto Ottimo Grazie King Grazie Ciao Nigio Come stai Stai tranquillo Aldi Stai tranquillo Cosa ne pensi Delle roselline Che saltano Delle roselline Bello Comunque Un grande Grazie Ma che poi la gente Che dona Che guarda una persona Saltare Loro non stanno bene Ma raga Ma seriamente Cioè Poi Poi mi dico La gente che Soprattutto mette Mi piace Ah Dico Tipo io no Io Tipo no Adesso in questo momento Dico Quanti Quanti Mi piaci sono Qualcuno che raga Mi dice quanti mi piaci sono Adesso gli faccio un esempio Adesso raga gli faccio un esempio Un secondo Adesso raga Faccio un esempio Ciao viva il calcio 7400 A 7.1 Adesso tipo Dico Ragazzi A 20 A 20.000 Mi piace Vi esco il cazzo 50 centimetri Ciao No nel senso L'uccellino E poi tutti quanti Iniziano a mettere Mi piace Iniziano a fare così Iniziano a prendere il vostro Iniziate a prendere Iniziate a fare così Tutti quanti iniziano a impegnare A mettere l'autoclicker Tutti quanti iniziano a mettere l'autoclicker Poi si va nella home Ma non ha senso Cazzo Pover PLS Esatto 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 Viva il calcio Adesso metto un bello Una bella scritta gigante Dove scrivo 20.000 like Dopo l'aggiorno 50.000 like Dopo l'aggiorno ancora 70.000 100.000 Continuo così fino alla fine La live Arrivo a un milione Arriviamo a un milione Con scrivito Ragazzi A un milione di like Vi esco il cazzo Ve lo giuro No clickbait Ve lo esco Poi mi mettono un cerdino Come immagini A che punto siamo? Baby Faccio ancora qualche partita Forte E dopo andiamo su animatronics Sono a 8k Vai raga Dai dai 20.000 Ci arriviamo dai Vi esco il cazzo gigante 50 Da 50 cm Se arriviamo a 20 Se invece 25 Ha 25.000 like Da 60 Però Due persone Possono riceverlo Per favore Non farlo No no Ma io L'interista Non lo faccio L'interista Anzi Già TikTok mi vuole Bane Che Mi ha bandato una volta Ci mancherebbe Comunque Tra poco Baby Andiamo Lo andiamo a sgaricare Vendicatore Che poi Raga è il bello Che poi Raga è il bello Animatronics Dopo andiamo a fare Raga Dopo raga andiamo a fare Queste animatronics Ma io di dove sono? Io fra Sono di Milano Se sei di Milano Vicino di Milano Mi puoi trovare Ma comunque Sai mio Instagram Fai ci vediamo Senza problemi Vedi Vedi il tuo youtuber Profanito Capito dal 2020 Vediamo una foto Dai tranquillo Si può fare Se vuoi Se sei nelle vicinanze Pavia Hai presente? Sì Certo Certo che ho presente Pavia Certo Leggi Cazzo raga Scusami Scusami Fede Eh non stavo leggendo Cazzo Raga scusatemi Certo Capri Che puoi giocare con me Eh porca puttana Twitch non lo stavo leggendo Non stavo leggendo Raga Twitch Scusatemi Ma come giochi A pecora Sì Jack Gioco con tua mamma Gioco con tua mamma A pecora Faccio Faccio così 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 a pecora No comunque Comunque Jack Ti voglio bene Jack dai Jack ti voglio bene Non ti insulterei mai Non ti insulterei È così È così Il calcio si fa È così Anzi se no O se no Non so Non mi ricordo Mi ricordo raga Un elemento di tiktok Un elemento di tiktok Che iniziava a insultare Tutti quanti E poi c'era La profusione Raga di insulti Lui continuava a rispondere Lui è un pezzo di merda Un altro gli scrive Coglione Coglione Spammi il coglione Oh basta Spammi il coglione E io comando Io poi Tranquillamente Io mi diverterei Cazzo Cioè Perché la gente Vabbè ma quello è per il content Ovviamente Viva il calcio Quello raga è il content Per quello Che una persona dice No non lo fate E poi ovviamente Lo fanno E poi là Gli insulti Dai che commentano Minchia Ci va subito Nella home Ci va subito Raga Nella home Subito Eh Allora aspetta Ma magari ci potremmo beccare Ma se Sì Cucciolo Come vuoi Cucciolino Cazzo Mi fa piacere Se ti trovo Mi fa piacere Ti troviamo No edward Edward Mazzaro Sellini Esword Madonna Madonna Edward 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 Con torsellini Mi ha donato Edward Che adesso Gli vanno Oh mancano 11 mila Cazzo raga Mancano 11 mila Ecco per la ciolla Ciolla gigante Ricordatevelo Ragazzi Ciolla veramente Enorme Mamma mia Che la ciolla è enorme Comunque Fede Al momento Twitch lo chiudo Baby eh Al momento Twitch lo chiudo Raga Quindi quelli di Twitch Ragazzi adesso vi leggo Sia su TikTok Sia su YouTube Così almeno raga Vi do Ovvio che puoi giocare Chebab Cosa fai dopo Fortnite Una bella scopata Intensa Tutti quanti Sia con quelli di TikTok Sia con quelli di YouTube Con tutti quanti Sia YouTube Sia TikTok Li uniamo tutti quanti Insieme Facciamo Una bella Una bella gang Un bel gruppo Di gangbang E ci scopriamo Tutti quanti insieme Diventiamo per Per 5 minuti Malanzi Andiamo a spaccare Tutto quanto E poi andiamo Ci scopriamo Tutti quanti Vicendo Allora No Caputana Sbagliato YouTube Datemi un secondo Raga TikTok Un attimo Raga Un attimo Cazzo TikTok Rewards Ma non me ne fico Un cazzo Allora Un attimo Camadonna Troia Puttana Eh raga Non vedo Non vedo il mio account Perché non vedo il mio account Dio Il tuo account Deve essere aggiornato No Non l'aggiorno Me lo faccio rubare piuttosto Ciao Come stai Me lo faccio rubare piuttosto L'account Assolutamente Ma non l'aggiorno Ma neanche se mi pagano Neanche se mi pagano Y Y T Tommel Due Secondo raga Adesso vi leggo Un secondo raga Porco Oh raga scusatemi Eh raga scusatemi Se non Non avevo mutato Scusatemi No Scusatemi Raga scusatemi Veramente Scusatemi No no dai Perdonami Per fuori Vuole le fortine Le fortine T'ho seguito Un saltello L'intervista Mi hai seguito Ok Ti faccio due saltelli Ti faccio Intervista Te ne faccio tre Te ne faccio Sono per caccia Sono per caccia Ti faccio un altro saltello Ma guarda adesso Stronzo No raga Comunque Veramente E No poverino No No poverino No poverino Dai Povero Zoro Sei rimasto male Sei rimasto male Povero Zoro Dai Ciao dimmi baby Debbiamo essere una fortuna Brugata bene Vai vai Ciao Fa schifo fortnite No 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 Però mi puoi dire Fa schifo fortnite Se non ti bello Cazzo raga Sendo che il mio stile È quello del bannare Il vendicatore No vendicatore Mi sa che nel 2020 Io non ce l'ho sta cosa Che questa abilità del bannare Non so se nel 2020 C'è Lo dicevo Però Mi sa che lo dicevo poco Oh si Non sa che non mi ricordo Non inizia con le palle Non inizia con le palle Ciao gucciolo No no Non bannare No no Non che non bannare Ma che lo dicevo Diocane Che Che tipo No minchia T'hanno picchiato da piccolo Te lo giuro Buffo Buffo te lo giuro Che tipo lo dicevo Che dicevo Cazzo di casa Adesso ti vanno Era tutta ultra chill Non lo dicevo nemmeno Ah no Eh però Vendicatore Ma te ti piaceva più Tom Mello 2 del 2020 Chill normale Che insultava eh Insultava le mamme Anche le sfilate No allora Nel 2020 Scleravo Allora Facciamo così Tra queste tre Tra queste tre Vendicatori Qual è che ti piaceva di più Allora Tommy 2 nel 2020 Che si incazzava come non so cosa Che si incazzava Un po' non diceva parolacce Forse aveva qualche bestemmia Qualche parolaccia 2021-2022 Tommy che si incazza Tommy che si incazza E insultava la gente Oh Tommy Deveva entrare nel 2024 Che insulta tutti quanti Insultano però ovviamente per scherzo Ovviamente per scherzo Ogni tanto Per scherzare è ancora più Con più enfasi Con che scopo? Ok dopo ti scopo Allora dopo ti scopo Ho mai giocato Rocket League Yes baby Oh madonna putt 2021 Va bene allora Allora raga Nei prossimi giorni Che fa? Raga nei prossimi giorni farò una live Alla tommel 2 In cui In cui urlo E non insulterò Non insulterò Però mi incazzo Come non sa cosa Lo farò per voi Staccerò Quando Verrà scopato Che bambino Cioè no Nel senso che lo vado Allora Te lo porto io Te lo porto io Come mi chiamo su Twitch? Eh fra Ora come ora Twitch Però l'ho staccato raga Escilo Ragazzi Mi raccomando Avetevi un like Piesco il cazzone gigante Eh Ma proprio gigante Guarda una gigante Esatto Come più di Alessia Esatto Come più di Alessia Poi Poi Aumentiamo Da 20 mila like Arriviamoci a 4 mila Dopo ci Mi ha più Perchè? Ok No no Fidati Che bestemmia Vino un po' d'assurdo No no Fidati Ah no Bestemmiavo Bestemmiavo ancora più di adesso No Anche quando c'erano i tuoi Diciamo di non urlare Esatto E ora come io la continuo a urlare Allora Io Vendicatore Io ancora un po' In questi 4 anni Te non puoi capire quante volte io sto rischiando la denuncia Io quante volte sto rischiando la denuncia Per fare del content per voi Per fare del content per voi Io sto rischiando veramente le denunce quelle pesanti Mi rendi conto Vendicatore Tommy ma a che ora finisci Tra poco Tra poco No no ma io urlo Io urlo e tutto quanto Però Vendicatore oggi non sto facendo uno Perchè C'ho un po' di mal di pancia Tra poco Tommy a che ora finisci Adesso io te lo giuro Adesso Io te lo giuro C'ho spaccato il microfono Cazzo Gli sono rotto il microfono No 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 Ci sono Ci sono ancora un microfono Ci sono Ci sono Ma quanto sta a keyport? Non lo stacco mai 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 Vabbè 5 minuti Non lo stacco mai Bannato Adesso ti banno Ma che ora vai a letto? Ranger Tra un 12 ore Tra un 12 ore Sto a chiamarla live E tra 24 Iniziamo la bella maratona Senza dormire Senza mangiare Senza bere Senza andare a letto Senza vedere i miei genitori Senza andare a vedere Com'è l'erba Se È verde o è gialla Senza vedere Senza sapere Se la terra è piatta Tonda Stai vedere un cazzo Fammi ma lo sai che Quelli che fanno ramadan Non possono manco scureggiare Ogni volta che ci Ci scappava dai così Fammi ma lo sai che Quella che fanno ramadan Non possono manco scureggiare E se scureggiano Guarda Se esplode Esplode Divento Divento così Divento Sì pure quelle che ci sono in live Che fanno più rose Donate più rose Sono sveglio Sì vabbè Ma quello Quello è una roba Che Sai Quello là raga Lasciamola veramente perdere Quella roba Raga Lasciamola perdere Ciao amore mio Ti amo Ti amo baby No ma non ti per mettere Di che ti ballo Del mio canale Te la giuro Se doni Io faccio un ban Permanente Guarda se doni Puffo qua Puffo Vieni Puffo Vieni Puffo Vieni Puffo Vieni Puffo Vieni Puffo No Ciao baby Ti amo Un bacino Un bacino baby Un bacino No sti cassi Che sto mastico qua Oh vedi 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 che io Ti faccio restare ancora di più Bye bye No 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 Scusa i neri No 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 I neri no No Ma perché Assolutamente No I neri no No Neri no 74 gab Cos'è che ha scritto Che è stato bannato Minchia Aveva scritto qualcosa Di veramente incredibile Poverino Porca puttana Sono entrati in live E ho visto un tipico player Quando muore Ma ti pare Ma ti pare Kiz Ma Kiz Ma ti pare Ma io Ma io non mi incazzo mai Kiz Io non mi incazzo Scusa Ma avrei sbagliato la live Avrei Avrei sbagliato la live No Scusami Scusami Ma avrei sbagliato la live Eh Kiz C'era stato un errore Della stream Molto probabilmente Eh Fili Pure io ti amo Pure io cucciolo Muah Pure io ti voglio bene Fili Non mi urlare No Io urlo No dai Non mi picchiare Dai Non mi picchiare Non mi chiamo Ma se no Non mi chiamo mamma Ecco questa situazione Io non so come fare Rischiare così tanto Tenermi Attivo Di tutti Ad esempio Anche se sono piccoli Ma a qualità Avrei fatto lo stronzo Ha detto Eh no no Io vendicatore Uno non posso dire Perché rischio il ban permanente Non da youtube Non si sa mai Ma comunque potrei violare Le regole Due perché non mi daranno mai Il play button Quindi Io raga Dicendo veramente Insulto Bene Rischio veramente Che Non arriverò mai A 100.000 iscritti Vendicatore Perché raga Non ci arriverò mai Cavolo lo dico Sono un fallito Non Non ci arriverò mai Non ci arriverò mai Non ci arriverò mai A A 100.000 Me ne mancano ancora A 80 80.000 E passa Ma a parte quello Raga Non ce la farò mai Non ce la farò mai Dicendo Dicendo insulti Roba del genere Così facendo io Violo Violi termini di youtube Non mi daranno mai Il play button Quindi E anche quello Mi sfondi casa No no La casa me la sfondi Se no ti sfondo io Decide Ti sfondo io O te mi sfondo casa Ma tu sei Omar Falco No no Io sono Omar Io sono Mohamed Amuda Cioè Come si dice Mohamed di 5 cellulare Tiene a tutta gold Baby non ci scopero Non mi sa chi sono io Una settimana Una settimana fa Ho scopato Si ho scopato Minchia Ho scopato Invece che spaccato Che ritardato Ho spaccato il monitor Perché l'ho lanciato il controllo addosso Ah beh io due anni fa Ho spaccato il monitor Lo schermo del mio pc fisso Si pc fisso PC portatile Per sbaglio Per sbaglio eh Mi sa che se cerchi su google rosso E poi ti avvicini il tuo corpo Al pc diventi rosso Ma veramente Dopo ci proviamo No 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 ma scusami baby scusami Scusami Io un giorno Posso giocare Ovvio raga Tutti potete giocare Io tutti quanti voglio bene Mica vi chiedo le due roselline Per Per giocare con me O per parlare con me Mica vi chiedo raga Le due roselline Per giocare con me Cioè tipo Non è che vi dico Cacca Per giocare Per parlare Devi donare due rose Perché se no Se no O se no Per tipo dire Come si dice Ragazzi Per giocare con me Dovete donare due roselline E per parlare con me Dovete donare cinquante rose Se no Deve parlare Se no Il mio D E raga Se non ti do me le due Quello Questo qua Opa la Io veramente raga Boh Io raga Veramente non ho parole Ma tipo Loro i random Che tengono I lobby Eh lo so Che rieschio tanto Rieschio tanto Ma Mi piace rischiare Ormai io Sono stato Bello la ricchezza di Puttoschiamatio 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 Questa richiesta L'ha certo subito Puttoschiamatio 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 Ti ha certo subito Ti ha certo subito Cutnip Shhh Per parlare due rose Shhh Per fiatare Cinquanta rose Shhh Grazie 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 Per scrivere un commento In live Devi pensare Cinquanta rose Ecco esatto E no Anzi Aspetta Ancora Prima di pensare Però il messaggio Una rosa Quindi non potete Neanche pensare Per aprire la mappa Di fortnite Quante rose Per aprire la mappa Di fortnite Già Allora Già stai parlando Stai soffiando Stai Già Chi mi uccide Sono cento rose No scusami No no Si 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 mi scopo Oh 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 Si 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 no mamma Di fortnite Vieni vieni qua Tommy qua Tommy Che te te lo metto E per uscire dalla live Mille rose Ecco ragazzi Per uscire dalla live Mille rose Se no va bene Per respirare quante Per respirare Già respirando Ok una volta Due volte Tre volte Basta Sei stato bannato Alla chat Stato bannato Alla chat Già tre volte Per essere in casa E per respirare Cinque Cinque rose Ogni respino Che state facendo Ok Quindi cinque rose Per viva Per Per nova Per checca Ok Perfetto Ma sei acustico No tu cugino Tu cugino Un pochettino Allora L'ho scoperto Da Da tua mamma Mi devo prendere La casa Quando Ok Non esco più Ah bravo Ecco esatto Franco Scaleia Messaggio Ritirato Ritirato Messaggio Dai Per quale motivo Hai fatto questo Dai Comunque grazie Chi sei Ti voglio bene Grazie per il palo Dio Lai No no Ale Dio Ladro Dio ladro Volevi dire No 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 Non dire queste cose Dai Fammi fare emozionare Dai ho lasciato Per camminare quante rose Ah no Allora Per camminare Franco Dove intendi Su fortnite Ogni passo Per camminare Ogni passo Una rosa Guarda Puffo Puffo Uno due tre Quattro Cinque sei Sette Otto Nove Dieci Guarda quante rose Stai spiegando Mi sta in debito Dio Dio Puffo Dio Sedia Sono tutti quanti Dio Ma diverse di categorie Sono tutti quanti Dio Ma di diverse categorie Queste qua No dio Lai Dio lurido Dio lurido Di bastardo Dio Dio messo a male Sono tutti quanti Dio 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 Africano Sono tutti quanti Dio Ma di Dio Ma io No comunque Raga Adesso Raga Basta Basta Usiamo da sto gioco Di merda Però se esco Ragazzi Se esco da questo gioco Di merda Quante rose devo donare No no mi conviene Centomila Centomila Porca puttana Porca Porca puttana Cazzo ragazzi Cazzo Schivetone Quanto fa uno più uno Cazzo questo è difficile Schivetone Minchia Questa è infinita Schivetone Infinite Vai Tutte le rose Scusatemi ragazzi Scusatemi Per chi vede quante rose Cinque rose Cinque rose Cinquemila rose A commento ragazzi Ok Già Già viva Siamo a diecimila Ok Già diecimila Predator Quante rose per fare Mi wing Bye bye 50 rose Ragazzi Chi mette like Ogni Ogni cento like Sono cinquanta rose Cento rose in meno Nel vostro account Ogni cento like Che mettiamo Nella stream Sono cinquanta rose in meno Mamma mia Siamo a dodicimila e sei Siamo a dodicimila e sette A tutti i voti Vedi che sono in like Meno cinquanta rose Meno cinquanta rose Ciao Renardo Benvenuti in live Ciao baby Poi per fare moderatore Centomila Oh esatto Esatto Per fare moderatore Centomila Tommy 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 Banna permanente Per Cento rose Quante skin hai Tommy Banna permanente Mi schiva Due rose Quante Allora ragazzi Ogni Ogni skin ho Quanti skin ho La vediamo Qualissimo Allora Qualissimo Come nel Montefiorio Sei 12 18 14 30 40 Saranno tipo 100 qualcosa Rose 100 qualcosa Skin Dammi tre minuti E rientro Quante Per le persone Che dicono Mi fai shane Allora Ragazzi Per le persone Che scrivono Per favore Mettetevi in codice shane Quelle vengono Bannate Più 5000 rose Donate Denunciate la polizia postale No 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 shane però eh No shane No Sennò ban Sennò 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 Mero ban Raga Vendicatore Ci sei pure te Guccio No Evidentemente Vendicatore C'è pure Il baby La finanza a casa Gli mandiamo Esatto Che 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 Schive Che insulta Che insulta Una rosa Schiva 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 Aspetta Schivo Stavo schivando Dopo fai vedere lo shop Allora Mixi Vuoi vedere lo shop Vuoi vedere lo shop Mixi 5 rose Schiva 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 Vuoi vedere lo shop 5 rose Allora Basta 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 Non ci faccio più Basta Schiva Schiva Non ci faccio più Laga Non ci faccio più Tommy Basta Basta Schiva Perché Mi ha insultato La madre Schiva Pezzo Di merda No Nel senso Ovviamente No No Stavo scherzando No No Mixi Stavo scherzando No Stavo scherzando Ti voglio bene Ti voglio bene Ti faccio Ti faccio vedere Questo lo shop Andiamo su case Adesso andiamo su case Questo lo shop Baby Oddio raga ma che cazzo è sta roba To the beat Oddio ma che è sta roba Oh ma che è sta roba pazza Fermo 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 Mixi ma dono Speramente Si sta donando 5 rose ogni 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 Sireccia di shop No ma grazie Se metti colci shane Dono 30.000 rose Va bene Più 60.000 No comunque grazie Mixi Ma non dovevi No no Ah ma viva Viva ha donato la rosa Per Perché ha commentato Per quello Almeno C'ho A porfora anche No no Comunque veramente Grazie Mixi Ha respirato Ha respirato troppo Ha pagato Ha pagato i suoi debiti Schriva un po' di porfora Anca a porca Che va 50 50 rose 50 rose Un po' di porfora 5.000 rose Esco di casa Chef 5.000 rose Esco di casa Chef Una rosa Esco di casa Una rosa Una rosa Esco di casa Esco di casa Esco di casa Una rosa Una rosa Esco di casa Oh schiva Distanzito Oh Comunque Allora raga Un secondo Sentiamo il Il suono Di questa roba Tommy a me Mi arrestano Non ho pagato Vado Vado a fare I lavori sociali Io poter Non lo stai I pagati Riproduci Raga sentiamo qua Sentiamo il ballo Il ballo Da Sex Ma che cazzo è sto ballo Oh Fermi Fermi Oh Fermi 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 Raga Fermi Oh Ma schiva Fermi 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 Zam Siamo Fermi 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 Ma che c'hai fatto? Ma grazie, non devi donare le rose Ma ti sta rubando per il culo Ti voglio bene 50 rose per ogni striscia in shop Oh, mamma mia La foresta sottile Ascelle No, no, è troppo È troppo scellosa La foresta dietro Puttano la scella e chiudi la bocca Sennò sei spastico No, no, no Sì, cambia il gioco, bevi Sì, bevi Sì, adesso, aspettate Adesso lo cambiamo il gioco Che cazzo è sta, ragazza, roba? Pacchetto principante? 3,70 euro Cioè, ma qua, ragazza, siamo arrivati agli sgoccioli Cioè, siamo arrivati, ragazza, agli sgoccioli pure Cioè, andare a prendere pure gli euro del caffè Raga, pure andare a prendere gli euro del caffè Ma ci rendiamo conto 3,75 euro Ma che cazzo di merda, oh Ah, ah, mio cane Ma tu senti, ragazzi, tu sta piangendo un po' troppo Chiudi la bocca Ma che farei io No, chi è che sta piangendo? Chi è che sta piangendo? Chi è che sta piangendo? Comunque, ragazza, sto ballo è bellissimo, eh Bellissimo, ragazza, sto ballo Allora, adesso te lo regalo No, 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 non me lo regalare No, comunque, ragazzi, adesso dobbiamo giocare, tranquilli Comunque, grazie, no, va Mua, grazie Bro, ma come sei messo? Eh, purtroppo, sì Purtroppo, mi hanno messo come un metto Oh, mi hanno messo un meagle nello shop Oh, meagle? Nico Che è Nico? Nico? Che è? Nico Non ho capito un cazzo Comunque, come sono messo? Prima di mettere mod Allora, amici Se rimani tanto attivo sul canale Su qua, sul canale Te lo metto, cucciolo Raga, comunque Scusatemi, non mi stavo leggendo A proprio di Tom Guarda che sei da PC Che componenti ho? Allora Adesso, ragazzi, io comunque Lo voglio bene Puff, addio Comunque, come sono messo? Oh, mi giusto Mi ricordo di te Comunque Bara Come sono messo? Sono messo in una bara Sono messo in una bara Tra poco Mi portano al cimitero Purtroppo E E adesso Mi devo mettere dentro la bara Mi devono mettere Come McTost Prendono i due panini Mi metto io in mezzo Mi mettono due panini Mi mettono la sottiletta E poi mi cuociano E poi mi mettono dentro la barra Adesso possiamo aprire Bluestacks Comunque, i componenti del BC È una 1370 Ti Ovviamente di PC portatile Bendicatore Sono tutto bene Sono tutto bene, Manu Come stai te, cucciolo? Big Mac No, no Mi mettono direttamente come un McTost Poi mi fanno così Wager 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 Come le mott Ma sei in casa da solo? Bibbo No, sono con due, tre barboni Che sono qua sotto di me Stanno ridendo Stanno facendo Con i denti tutti quanti Tutti quanti storti Stanno facendo un po' di Un po' di panini Alla McDonald's Sono fuori casa In questo momento Questo è un green screen Ovviamente quello che vedete Ma che Cioè, ma cosa pensate? Ma voi pensate che questo è casa mia? Cioè, meno una parola, veramente? Madonna Questo raga è un green screen Cioè, non è casa mia Questo raga in questo momento Non è casa mia Questo raga è un green screen Tocca al muro Dai, proviamo Dai, adesso io faccio vedere Adesso io faccio vedere Adesso io faccio vedere Un attimo Un attimo Però raga Se ridete il green screen Si toglie raga Mi raccomando Non ridete Non ridete Raga, non ridete Non ridete Perché se no il green screen Raga, si toglie Si toglie il green screen raga Fermi, fermi 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 Si toglie il green screen raga Oh Oddio Raga, non riesco a toccare il muro Non riesco a toccare il muro Ale Non riesco a toccarlo Non riesco Non riesco a toccare neanche la spina Perché raga Anche la spina è un green screen Oh Adesso mi incazzo Eh raga Non funziona Per ridere Sono 90 rose Ok 180 rose Si toglie gli occhiali Dono Oh Che cazzo Eh No, comunque raga Avete visto che è un green screen No, potete confermarlo Che è un green screen Giuro È un green screen Mi saluto 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 Fermo Minchia adesso lo banno Te lo giuro Fermo No, no, no Te lo giuro Questa non è ancora un'altra rosa Te lo giuro Fermo 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 Ssss Ssss Fermo Fermo Ssss Fermo 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 Ssss Ssss No, il microfono Adesso sarà poco spacco per il microfono, raga 104 rose a ogni parolaccia Eh, lo so che non si vede niente, raga Scusatemi un attimo Adesso avvio Bluestacks Scusatemi, raga Grande Tommy Grazie, Francesco Cazzo 65 rose Ma qual è? Ma ogni rosa ha una scoppata a Mickey Va bene, Ricky Dopo Dopo ne parliamo Dopo stanotte ne parliamo, eh Ancora altri 20 Ma quanto cazzo è nato? No, minchia Ma io me lo scopo Veramente Ma io scopo tutti quanti che li hanno dato in questa live Ma tutti quanti Chiunque Ha donato in questa live Cioè Dopo Facciamo un party insieme tutti quanti No, la puttana Mi scopo Ognuno di voi Amica, viva A Salvatore A Yusef Puttana, madonna Tutti scopati, giuro Allora, fatemi avviare un attimo Bluestacks, raga Bluestacks, salvatemi un attimo Adesso andiamo a giocare all'horror Grazie, cuccioli A lui è necessario ricaricare i soldi Un'orgia Facciamo un'orgia, Daniele Ogni, ogni rosa Uniamo tutti quanti Uniamo Ma altro che orgia Ma sai l'orgia di api, no? Che partono api E partono tutti quanti No, ma qua proprio le pecore, no? Le pecore Iniziano a pecora Madonna Tutte di segno Tutte Cazzo Tutte pecorone Iniziamo Tutti Partiamo tutti quanti Partiamo tutti quanti Di oggi Come dei cavalli Andiamo di cavalli Allora, raga Vedete per caso Per caso, vedete Quanti peli ho Peli sul cazzo Che è un botto Sono un sacco di peli sul cazzo, ragazzi Due euro, tipo No, due euro Scopata per tutta quanta la notte Per tutta quanta la notte, quella Facciamo un trenino Ovvio No, porco Dio, bastardo Porco Sbagliato, raga, porco No, no, tuo padre Tuo padre Tuo cugino Tuo fratello Tuo padre, tuo cugino Tuo fratello Tuo padre mignotta Dispositivo Autoparlante Autoparlante Oh Adesso sì che si ragiona Adesso, raga, sì che si ragiona Ma scusate, ma raga Ma si sente per caso? Raga, si sente l'audio? Boh Boh Ah, oh Welcome to Blastar Ok, non vedete, non vedete Raga, non vedete, non vedete Lo so che non vedete Aspettate Aspettate un attimo Vedete? Ok, qua si vede Su YouTube Ciao Samuele Ciao Giuseppe Ciao Gucci Ciao, benvenuti in live Ma quanti anni ho? Cinque e mezzo Cinque e mezzo Quanti sei Eh, non mi discordo Lo apri No, non penso Che poi non si sente un cazzo Ciao Giga Chad Non si vede Adesso, raga, si vede per caso? Adesso si vede Taglia i peli della scelle Allora, Exeed Se vuoi Mi taglio pure anche quelli del cazzo Oh Dio Potremmeno se è contento Ok? Oh Eh, che cazzo Potremmeno se è contento Buon Dio risorto Ma altro Ma quel brutto Dio Eh, ma no Adesso Adesso non gioco Ah, a Brawl Amiche Ti voglio tanto bene, baby Ti voglio tanto bene Cucciolo di papà Ancora Brawl No, no, no No, no, raga Sbagliato, sbagliato Tutto ok Ovvio che tutto ok Cucciolo Eh, io ho 13 anni Vabbè, io Io capri Tre anni e mezzo Eh, piacere Allora, un attimo Che non si vede qua Arco di Ciao Marco Lidl Ciao Marco Lidl No, io pensavo Eh, il negozio Raga, ma si vede? Minchia, non si vede un cazzo Su TikTok si vede Su TikTok, raga, si vede Su TikTok si vede Ma Non si vede su YouTube Non si vede Raga, non si vede su YouTube Eh, no, raga Adesso non vado su Brawl Che ci rendete inizio live Sennò veramente Mi scopo da solo Mi scopo da solo Diavolino, diavolino Mamma mia, raga C'ho troppo caldo Mi vorrei togliere la canotta Però Poi, raga Mh You porn TikTok dopo mi banna Per nudismo Non posso Raga, non posso Mi vorrei togliere la canotta Ma vi giuro Dopo TikTok Piangi, inizio a fare Piangi, inizio a fare No, dai Fa un culo Merda i TikTok Ovviamente stiamo scherzando Cinegiti, merda No, stiamo dicendo Un attimo, un attimo Un attimo, un attimo Un attimo, un attimo Ragazzi Da, ti prego Fatti vedere Ti prego Fatti vedere Pezzo di merda Niente Non si vuole far vedere Suo stronzo Non si vuole far vedere Su YouTube Niente Esci dalla stanza Ti togli La Il canotta Va bene Francesco È tornato Un attimo Vado Ciao Cucciolino Grazie per le Grazie per le roda Ti si ama Ti si ama Baby Mh Mh Raga Ma perché su YouTube Non si vede Ma perché non si vede Su YouTube Ma perché Non si vede su YouTube Il vendicatore è vero Che ci c'è ancora Ritornerò più forte Di prima Vai baby Ti aspetto Ti aspetto Viva il calcio Grazie braderino Per l'escrizione Grazie Ma è vero che il vendicatore c'è Ti prego Di me Sì Raga Dove cazzo è Quel porco Non lo so dove è Quel porco Non lo so dov'è Lo stiamo cercando tutti Ti puoi far vedere Lo scher Fai vedere Lo schermo Dio Smerdata Non so Raga Non vuole far vedere Lo schermo Raga Non vuole far vedere Lo schermo Minchia adesso Minchia raga Adesso ti rompe Stemmione Vendo Certo Vendo Vendo Robux Robux Sì Vendo Robux Vendo Robux A tutti quanti A tutti quanti I bambini Per Pasqua A tutti quanti Allora Riapriamo Qua Bluestacks Io ti vendo Cosa 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 Che fa Dark Cosa fai Te Cosa Come fate Ah ecco eh Ecco ti stavo per bannare Ti stavo per bannare Ti stavo per Ti stavo per fare una bomba Stavo facendo come una bomba Io vendo bambini a Roblox Oh Finalmente Cazzo Oh Qualcosa Qualcosa di buono Comunque raga A parte gli scherzi Cazzo Oggi È il 31 Mentre che io raga Risolto questa roba Io Vi faccio una Bona Bacca tutti quanti Andiate più Kinder possibile Mi raccomando oggi Oggi raga Andate a Lesso Lunga Andate Andate raga Da tutte quante le parti E Svuotate Tutti quanti i negozi Svuotate Il Carefour Lidl Ehm La Conad Svuotate Tutto quanto Svuotate Prendiamoci tutti quanti Le uova di me Contrata Mi raccomando Ehm Allora Minchiavo te lo giuro Non so che non si vede Lo so Perché non si vede Minchia raga Minchia raga Ve lo giuro Mi sto alterando Raga Ve lo giuro Mi sto alterando Pierca Pierca Minchia Se metti ancora un'altra volta La mano in faccia Sai dove te la metto Quella mano Non più in faccia Ma te la metto Con il culo Te la metto All'euro spin Ecco Andiamo all'euro spin Direttamente Ecco Poi apposta E viva il calcio A 50 Perché si è entrato Verrà venduto Per due cambelle No Deve rimettere Ma raga Ma su tiktok Si vede Perché Che rank sono Edz Sono al Rank 45 bambini In cantina Stiamo per raggiungere E 50 Road su 50 Bambini In cantina E fra Ci manca poco Comunque Ci manca poco Cioè Stiamo quasi Quasi per fare Cioè Stiamo quasi per fare Cazzo Mi puoi aiutare Te Edz Per caso Mi puoi Mi puoi aiutare Te Allora per un cammello No 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 Sto per manare Ma quello che prima Ti ha detto Ripigliati Ma No va Gente Io vorrei Tante Dire tante cose Su certa gente Però io raga Non posso Non posso Perché sennò dopo Tiktok Dopo piange Sessuale Perché si insulta una persona Per O razzista O sessuale Non per insultare No io non ci posso credere No io non ci posso credere Io non ci posso credere Niente Niente M'hanno M'hanno Bannato la tiktok Ancora Ancora No ma io non ho parole Raga Io non ho parole Cioè no No ma certa gente Veramente raga Non è ritardata Veramente Raga certa gente È ritardata Raga io ve lo giuro No 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 Eh ma una buona Da tiktok Fino Fino a 7 aprile Fino a 7 aprile raga Per una settimana Motivo dell'infrazione Prodotti E servizi Sessuali Prodotti E servizi Sessuali Cioè M'hanno M'ho mandato Per prodotti E servizi Sessuali Cioè raga M'hanno 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 mandato Per prodotti E servizi Sessuali Ma veramente No raga Siamo matti qua Raga Siamo matti Raga M'hanno mandato Per prodotti E servizi Sessuali Prodotti E servizi Sessuali Ma come Cazzo Ma come cazzo Si fa Ma raga Ma come cazzo Si fa Ma come si fa Oh Pazzia Ma pazzia Ma veramente Capri Ma raga Ma seriamente Tiktok Tiktok E' un luogo In cui le persone Possono discutere O scoprire di più Sulla sessualità Sul sesso O sulla salute Riproduttiva Siamo consapevoli Che alcuni contenuti Che riguardano La sessualità Il sesso E la salute Riproduttiva Potrebbero non essere appropriati Per i giovani Essere considerati Offensivi Da alcune O creare Un potenziale Per lo sfruttamento Non sono ammessi Attività O servizi sessuali Inclusi il sesso L'eccitazione sessuale Un comportamento Fessis O perverso Nella ricerca O l'offerta Di servizi sessuali Visita le nostre linee Guida della community Accesso a live revocata Ma raga Ma E' normale Ma raga Ma Cioè Veramente Ma TikTok Io dico tante volte Ma è normale Ma soprattutto E' una piattaforma Che sta a posto Ma tutto bene Ma tutto bene Bot di merda Ma tutto a posto No vabbè ragazzi Ma poi soprattutto La gente che segnala Cioè La gente che veramente Segnala live Veramente Avrà il cervello così piccolo Che vabbè Sì sì Ma la gente che segnala La gente che segnala Perché non si vede Adesso risolvo Adesso risolvo Cioè raga La gente che segnala Veramente ha problemi Veramente mentali Ma io ve lo giuro No adesso risolvo Dario Adesso risolvo Ora solo YouTube Eh YouTube e Twitch Capri Ma sì ma Raga io per fortuna Ho sempre detto TikTok è una piattaforma Di merda Io ve l'ho sempre detto Io raga ve l'ho sempre detto Che TikTok È una merda Come piattaforma Io ve l'ho detto Ed è la verità Ed è la verità Io non so come la gente Ci fa campare Con quella piattaforma Che roba Raga YouTube è la vita Raga YouTube è la nostra vita Quindi raga Spamme di cuori Cuori in chat Raga Rossi Per la nostra YouTube Ringraziamo Dio Che siamo su YouTube Raga ringraziamo Gesù Padre Signore Che siamo su YouTube YouTube è la nostra salvezza Cazzo YouTube all'universo Sì capri Porca puttana Ti temiamo YouTube Ti ringraziamo Che non sei come Con la piattaforma Di merda L'unico nostro Salvatore è Dio L'unico nostro Salvatore è Dio Ti amiamo giuro Ti amiamo Ti amiamo Grazie Grazie a Dio Che esisti Perché se no Non c'era nessuno qua Né Carmen Né Ale Né Andrea Né Gabri Né Yusef Non c'era nessuno qua Grazie YouTube Grazie Ti ringraziamo come la Madonna Ti ringraziamo come la Madonna Perché se non c'eri tu Dio stronzo Se non c'eri tu Madonna puttana Mamma mia Come eravamo Eravamo finiti Eravamo finiti tutti quanti La vita era finita La vita era totalmente finita Se non c'era YouTube La nostra vita era finita Mamma mia Per fortuna E per fortuna Che non è stato fatto Da cinesi YouTube Ci mancherebbe Ma raga Ma ci mancherebbe Che YouTube Non è stato fatto Da cinesi Ci mancherebbe Raga Ci mancherebbe No ma cosa è successo Niente Da un momento all'altro TikTok Senti Senti il solito rumore No Tipo di Di rincoglioniti Sembra La suoneria E' uguale Identica La suoneria del telefono Quello la sapete Quello l'ha preimpostato normale Uguale 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 identica Nokia No carmen E' tipo quella Della samsung Però E' una delle scenerie Preimpostate Tipo Le malacas Le malacas Le malacas E' niente Hai detto troppe cose E riguarda il sesso Niente Raga ma io Che cos'è che ho detto Sul sesso Che cos'è che ho detto Raga sul sesso Che è di così aggressivo Che TikTok Se l'è presa Ho detto che ce l'ho grosso Poverini Se la stanno Non ho presa Forse perché Raga ce l'hanno piccolo Quanto sono Con i live Un pochettino Niente raga Che ce l'ho troppo grasso Raga Molto probabilmente Ce l'ho troppo grosso Raga Quando ci sono offesi Tromba Eh perché Trombo Per quello Ma dai Avevamo 16.000 Eh Andre Vado a dire TikTok Che è una plataforma di merda E raga Non c'è manco Un secondo profilo Non c'è manco E mo adesso Fino al set Io non posso farla live Adesso Nova Porco Dio Adesso fino al set Non posso fare Le live su 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 TikTok Ma Giala Madonna Ma perché Ma perché YouTube Perché 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 TikTok Deve essere Una piattaforma Di merda Cioè ma c'è Certa gente Che gli piace Vedere la mia live E te di rompere I coglioni Ma perché Poi non c'è Un numero di telefono Non c'è un cazzo Non c'è un assistenza Raga Non c'è un cazzo Di niente Madonna Puttana Almeno YouTube C'è un assistenza C'è una chat C'è qua Qua su Su TikTok C'è Non cazzo Ma di un messaggio Se ti rispondono bene Se no no C'è un assistenza Niente Eh raga Horror Se forse funziona qua Se forse Se forse Se rassurrime La questa raga va Ah madre Santissima Che cinesi di merda Cinesi di merda Raga Ma poi vi rendete conto Che è un bot Che vi banna Raga È un bot Anche qua Anche qua YouTube Fa le cose Ma Corco Dios Oddio raga Buono Oh Oh Iscritti Oh Oh Buoni Oh Fermi Oh Ma cazzo Raga Sono tutti iscritti Che non si sono aggiornati Raga Sono tutti iscritti Che non si erano aggiornati prima Oh Calmo 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 Raga Erano tutti iscritti Che non si erano aggiornati Madonna Tutto è pazito Guarda che pazzo Accadroia No comunque grazie Grazie Andre Eh mi sono già scordato il tuo nome Grazie veramente che mi hai seguito su YouTube Oh raga io Prossima settimana Ricordatemelo Vi prego Ale Tutti quanti raga Vi prego Ricordatemelo Che metto la scritta Del seguitemi su YouTube O comunque ogni 5 minuti raga Dico Seguitemi su YouTube Perché poi la gente Perché poi la gente raga Non Perché poi raga la gente Mi perde Mi perde perché Perché Aspettate un attimo Perché raga se no Perché se no raga Non Su TikTok Na merda Cioè TikTok raga Na merda Poi la gente mi perde Poi dice Ma dove cazzo è questo E poi togliere il follow Perché giustamente Non c'è un cazzo Un giorno è buono Grazie Carmen Ma non è obbligatorio Carmen Ti tranquillo Cuccio Ok Ogni 5 minuti Devo dire Ragazzi mi raccomando Seguitemi su YouTube Che TikTok mi banna Seguitemi su YouTube Prima che Quella piattaforma di merda Che TikTok mi banna Quindi raga Ogni 5 minuti Devo dire questo Devo dire Cosa facciamo Horror se forse funziona Sta merda Horror se forse funziona Sta merda Funziona sta merda Di 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 sta roba no Boh Fala capire Boh raga Non lo so se funziona Scroto No no nel senso Di socio Dai per favore È da mezz'ora Che sei così Puoi andare a essere Di merda Chiami Nico Eh Magari ricordarmelo Ti ho perfino Scritto su TikTok Perché Non capivo Cosa era successo Sì sì ma Raga È bellissimo Quando mi hanno bannato Dopo andiamo a risentire La canzone Forse perché hai detto Ti scopo Ma veramente Ma veramente Yusef Ma tutto a posto TikTok Dai Cioè ma Vabbè ma poi là Non ci sono manchi controlli Yusef Quindi vabbè Là una minima cosa Una minima cosa che dici Bannato Dici Ti uccido Bannato È tutto Che problema c'è E che problema c'è Mi sta sul cazzo Bannato Dici Ti scopo Yusef Bannato Che problema E che problema c'è Boh TikTok non sa che cos'è la riproduzione umana No ma soprattutto Chi l'ha fatta Soprattutto chi l'ha fatta Chi ci ha messo il bot Anche se riviene Ragazzi sapete qual è la cosa Che fa più ridere Adesso vi mettete veramente a ridere Sapete raga Qual è la cosa più bella Ancora di più Che se voi raga fate ricorso Dopo 5 minuti Ve lo rifiutano Dopo neanche raga 5 minuti Ve lo rifiutano Ve lo rifiutano E dice Entro 24 ore Vi rispondiamo Entro 24 ore Vi rispondiamo Ma neanche 5 minuti Ve lo rifiuto subito Un bot di Un bot di merda Madonna puttana Un bot di merda Che rifiuta subito Guarda Fa Fa così No Raga in 5 secondi Si guarda tutta la live Fa così Ah cazzo Questo è stato bannato Ha mandato una rivendicazione Vediamo Ok No Sesso Sesso Ti ho trovato Ma no È rifiutato Il trattino basso sugo No no Il sugo l'ho bannato L'ho bannato Perché mi ha detto Ti scopo Ho fatto come Il bot di tiktok Allora Qua dove cazzo È il Il coso del Acquisizione Gioco Vaffanculo Vediamo se va Con l'acquisizione Gioco Qua sta merda Perco dio Allora Trasforma Andate lo schermo Raga Si vede Ma Motti banno Nel 7 aprile No 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 Raga Fino al 7 aprile Ci sono Cioè ora come ora Raga io ci sono Ora come ora Raga io ci sono Ci siamo Ci siamo Raga al momento Si vede raga Lo schermo Vi prego Tutti mi dici È bello Sono tornato Ciao amore mio Ciao amiglio Ciao guccile Come stai Fino al 7 aprile Purtroppo raga Adesso sono bannato Fino al 7 aprile Raga io non posso Fara su Allora Adesso mando ricorso Raga facciamo così Adesso raga Io mando ricorso Contate in quanto tempo Me lo rifiutano Va bene Raga io ricevo la notifica Contate in quanto tempo Me lo rifiutano Facciamo il record Raga facciamo il record Perché si è bannato Su TikTok Erminio Bannato Motivi dell'infrazione Prodotti O servizi sessuali Prodotti O servizi sessuali Non so di cosa sessuale Però beh Secondo Secondo il bot Prodotti O servizi sessuali Vabbè buono Si tratta di un errore Ovvio Presenta un ricorso Se ritieni che il tuo accesso Ci è stato sospeso Per errore Puoi presentare il ricorso Entro 180 giorni Invia Adesso voglio vedere L'esame del tuo ricorso Ti chiederà circa 24 ore Raga circa 24 ore L'ho mandata all'una e mezza Raga all'una e mezza Vediamo in quanto me lo rifiutano Andiamo a vedere in quanto tempo In quanto tempo Ce lo rifiutano Ma cosa c'è di strano È la vita bot Eh Eh purtroppo Piattafuma cinese Cioè Pialessia Fai saltelli No tu Eh che scherzi Eh ma perché Pialessia Eh Non dico che sa le norme Come si dice Eh Non mi viene in mente Scusami raga Mi fa male la bocca Perché Pialessia Non dice un cazzo Non dice un cazzo Raga Pialessia Sta 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 nel suo E non dice una minchia Per quello È per quello Fra Per quello Che ci possiamo fare Sta nel suo Non dice un cazzo Raga Né insulta Né parla di sesso E non parla di niente Raga È per quello che Che non la bannano È per quello raga Lei non parla di sesso Non parla di niente Lei gioca e basta Eh ma è brutto Raga ma che palle Cioè Che piattaforma di merda Cioè Non si può parlare di un cazzo Dice una cosa E ti bannano Dio santo subito Case animatronics Case animatronics Eh non si può Dio un cazzo Pattaforma di merda Cioè noi cos'è che ci possiamo far Niente Non possiamo farci niente Aspetta C'è stato bannato Per prodotti e servizi sessuali Allora Questo significa Che per tiktok È sponsorizzato Ma raga Mi sa che ho sponsorizzato Delle Mi sa che raga Ho sponsorizzato Ma non è che raga Ho sponsorizzato Dei durex Non ce ne siamo accorti Ma raga Ma non è che abbiamo sponsorizzato Dei durex E noi Non ce ne siamo accorti E noi Non ce ne siamo accorti Secondo me Raga è così Eh Raga ma secondo me Abbiamo sponsorizzato Dei durex Oh Ho visto un durex Che ho tirato via Fuori dalla tasca Ho fatto Oh Ragazzi scusami Che puttana Cazzo Ho pensato di aver fatto vedere La bottiglia Ok ragazzi Questo Questo non è le mie cuffie Ah no cazzo È il durex Scusami Questo ragazzi Scusami Mi ho sbagliato tasca Questo è Sono le mie cuffie Ok Avevo fatto vedere un durex Ci siamo sbagliati Poverini Sono offesi E quindi Ho bannato Pezzo di merda Pezzo di merda Te hai fatto vedere un durex I bambini di 9 anni Non possono vedere quei Bannato Ah pazzesco Ragazzi Veramente incredibile Incredibile Ciao Nicolas Nicolas Mi hanno bannato Su tiktok Per sessualità Mi sa che ho fatto vedere I durex Mi sa che ho fatto vedere I durex No ma veramente Io Non ho parole Ragazzi Io non ho parole Ragazzi Oh giuro Ragazzi giuro Prossima volta Io prossima volta Oh Io raga domani Vado a prendere un cazzo Di durex Io raga domani Vado a prendere un durex Il 7 aprile Io raga il 7 aprile Appena mi sbannano Lo faccio vedere in live Così almeno voglio vedere Se mi bannano Per sessualità Io raga lo giuro Lo giuro Lo giuro Io raga ve lo giuro Ve lo prometto eh Ve lo giuro Ve lo prometto Vado a prendere un durex E lo faccio vedere in live Su tiktok E dico Ragazzi Con questo durex Vi scopo tutti quanti E raga lo dico così Lo dico così Tempo 5 secondi Già bannato Allora Mi date 5 secondi raga Che vado Mezzo secondo in bagno Piappa un po' Mezzo secondo Così almeno Vado a farmi un durex No Arrivo 5 secondi Veramente Ciao Kyder Kyder Sono stato bannato Per sessualità Su tiktok Non so di cose sessuali Forse ho fatto vedere Un durex invisibile Raga arrivo subito Va bene Arrivo subito raga Scrivetevi in chat Arrivo subito Arrivo subito Arrivo subito Subitissimo 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 Grazie a tutti per la descrizione. Grazie a tutti per la descrizione. Grazie a tutti per la descrizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti per la descrizione. Grazie a tutti. 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 Ovvio, aspetta un attimo, te lo faccio vedere subito Aspetta un attimo, aspetta un attimo No, aspetta, aspetta Ho bagliato, ho bagliato Ho bagliato Ho bagliato Cazzo, grazie L'hai visto? Ma come faccio a comprarla? No, no, Dario, non l'ho ancora Ancora Dario non ce l'ho Non ce l'ho ancora C'è una maglietta così a caso Che ha messo Streamlabs Però la compreresti Già, già Dario Mi vuole comprare la maglietta Vieni, continui, un bacino Dario Dario comprerebbe la maglietta di Psyon Ti doambe le due Grazie Incluso Alex Già i primi Già i primi clienti Ecco, ovviamente Anche te, Andre Sei il terzo cliente Scherzare la data Eeeh 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 Nicolaz Tocazzo Minchia Allora Nicolaz Te spami ancora Mo' Vieni il suo discord Te lo spami Te lo giuro Ancora Eeeh Minchia Minchia Te lo giuro Lo scrivi Nicolaz Paternel 2 E' stato sospesale Per 86.000 secondi No poverino Nooo Già ha prenotato la maglietta Ah 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 Vieni qua ti in culo Vieni Vieni qua ti in culo No adesso A te adesso Vieni qua Adesso vieni qua E ti fa in culo No dai Sbannalo No no infatti lo banniamo adesso 10 secondi Così almeno può rifpammare Vai Nicolaz Rifpamma ancora Che li banno Eeeh No mi sono quasi le due Ma cazzo raga Ma raga Ma era mezzanotte e mezza Ma raga Era mezzanotte e mezza Che dovevo mostrarti il game Porco dio Infami cazzo Giuseppe Giuseppe Non abbiamo saltato veramente il game Porco dio Madonna E dai Avviati Merda umana Dai che dobbiamo giocare Orco di Porco E dai Oh dai Dobbiamo giocare Su E non mi cagare il cazzo Orca madonna E dai Su Baicia Minchia non va un cazzo Minchia Minchia non si apre Non si vede Non si vede Minchia raga Minchia raga Spacco tutto Minchia raga Spacco tutto Ve lo giuro Tommy Ma Ma la qualità di tiktok Te l'hanno rifiutata Adesso la andiamo a vedere raga Adesso la andiamo a vedere Raga se me l'hanno rifiutata Io 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 faccio bannare da tiktok Ve lo giuro Mando un e-mail In cui mi Mi faccio dire Bannatemi grazie Che è meglio A testa di cazzo Cinesi di merda Che spero che madonna puttana Mori tutti quanti di covid 2023 Scusami 2024 Andiamo a vedere Vediamo 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 Oh raga Aggiornamento Raga Aggiornamento Raga Aggiornamento Vedo già una r Aggiornamento Account 2.r 19 minuti Fa All'una e mezza Raga All'una e mezza 5 secondi Raga Erano passati 5 secondi Raga Erano passati 5 secondi Io ve l'ho detto Neanche 5 secondi A mandarlo Siamo pronti A aprire la notifica Ricorso Presentato Grazie per aver Grazie per aver Ah no Ma vaffanculo Ah no In fase di revisione E ancora in fase di revisione No raga Pensavo che me l'avranno rifiutato subito Vabbè no Allora dobbiamo aspettare un pochettino Infiato In fase di revisione Questo passaggio può richiedere Da 30 minuti A 4 ore In circostanze particolari Potrebbe richiedere più tempo Risultato Risultato Siamo su Super Mario Siamo su Super Mario Kart Strano infatti All'altra volta in 10 minuti Me l'hanno rifiutato Ho bloccato anche Samuel No Samuel no Però Samuel Il nostro amore No Non puoi E battarlo Ok Guardate Oh Ma cosa cazzo E ma out Guardate Tommy Nicholas Ha bloccato Dario a caso Sbloccalo Eh io non posso No no ma Dario c'è Dario 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 c'è il mio baby C'è il mio baby Dario C'è 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 T'hanno già rifiutato 10 secondi Sì 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 Ma iniziamo Sto gioco Ale Dillo a Streamlabs C'è Dillo a Streamlabs Ne fai un po' Come Come le chiami dei cani Streamlabs Vieni qua Cuccellino Cuccellino Porco Dio Dai Madonna Puttana Ti vuoi far vedere No Pezzo di merda Dio Cana Madonna Dai Dai Torco Dio Dai Madonna Una puttana Stronza Troia No raga No basta Raga io non ce la posso fare Raga io non ce la posso fare Cioè io sto avviando il gioco Raga non si vede Cioè io raga sto avviando il gioco adesso Non si vede Porco Dio Oh ma ti puoi svegliare Dio Merda Ma raga io non lo vedo Raga io non vedo Io raga non vedo più Raga non vedo più E quello è bello Io raga non vedo più Boh No vabbè no io raga non ho parole Veramente No io raga se non bestimmo tutti di diverse categorie Raga qua non si vede un cazzo Se qua io raga non bestimmo tutti quanti di diverse categorie E qua raga non Non si vuole svegliare Ma perché Ma perché Ma perché Ma perché diventi nero Ma perché diventi nero Ma diventi nero Perché sei nero Ma perché lo fai apposta Ma perché diventa nero Per un secondo si vede E poi diventa nero Finca di puttana Niente si vedeva Pezzo di merda Pezzo di merda Che tua madre Che tua madre ti avrà pigliato così tanto Pezzo di merda Stronzo bastardo Ma perché raga fa così Ma perché raga fa così Perché raga fa così Io scroto Niente Niente Bello si vede Non si vede più Bello Ah raga non Non ce la fa Non ce la fa raga Non ce la fa raga Alla 104 Raga la 104 Niente eh Cioè la 104 ti perseguita Niente Raga mi sa che si vergogna Sera campione Ciao Simone come stai Come stai gucciolò Raga non Non si vuole far vedere C'è paura Raga c'avrà paura Che cosa dobbiamo fare C'avrà paura Eh raga Purtroppo C'è paura Che dobbiamo fare Niente eh Cioè non ce la fai Cioè non ce la fai Non ce la fai Ce la fai Cioè io faccio vedere lo schermo Io raga faccio vedere lo schermo E poi si chiude E poi raga si chiude Bluestark si chiude Io faccio vedere lo schermo Raga si chiude Si chiude tutto Si chiude Raga si chiude tutto Raga si chiude tutto Si chiude No vabbè No vabbè No vabbè raga Pazzo scatenato Pazzo scatenato Oh raga fermi Fermi che adesso si vede Fermi Fermi raga Fermi 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 Calmi Calmi Oh Oh te lo giuro eh Oh te lo giuro eh Te lo giuro che porco Forse ce l'abbiamo fatta Forse raga ce l'abbiamo fatta Forse ce l'abbiamo fatta Oh ce l'ha fatta Santo Dio la madonna Oh ce l'abbiamo fatta Raga applausi a streamlabs ragazzi Ragazzi applausi a streamlabs per favore Applausi a streamlabs Grazie eh Grazie streamlabs Grazie Stringlabs No ma ce l'abbiamo fatta Cazzo Porca puttana Alleluia Mamma mia Ragazzi Madre di dios New game Ma raga ma si può giocare con controller Ah no non si può giocare con controller Ottimo New game Ho paura eh Ciao hacker Ragazzi io ve lo dico Sto gioco a me mi fa cagare sotto L'ho giocato Non siamo a tipo nel 2021 2022 A me raga sto gioco Mi fa cagare sotto Mi fa cagare sotto raga Mi fa cagare sotto raga Mi fa cagare sotto a me sto gioco Ho paura Mi fa cagare sotto a me sto gioco Mi fa paura Mi fa cagare sotto Ehehe Ma c'è la lingua giapponese A me raga mi fa cagare sotto Ah yes The tablet The department relies too much on this Mia mamma ha detto La mia letto No No Diti no No Ma c'è la lingua giapponese Si capisce meglio Eh ci gioca Da canicato Da canicato Da canicato Da canicato Uh bello sto tablet Bello raga Ma la tua madre è una puttana La tua madre è veramente una puttana Ma su chiami la cappella Che troia di merda Oh bello wow Fantastico Ma la tua madre è una puttana mamma mia Mamma mia quando tua madre Oh tua mamma No Scusa scusa Eccelant Oh 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 Stai zitto eh Per questi tratti non ci sono jumpscare Comunque come sta Tutto bene o no Eh lo so lo so lo so Ale Ma più o meno me lo ricordo eh Più o meno Cioè raga più o meno è per Un parolone Ma come faccio ad andare avanti raga Com'è che vado avanti qui Cosa Cioè io mi devo postare col controller No 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 fermi fermi No fermi no 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 Oh fermi no 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 Oh no raga fermi No in che senso Cioè io devo utilizzare mouse Cioè io devo utilizzare mouse per muo Aspettate qua Qua raga devo utilizzare Wast Per muovermi Non così eh Cioè raga io di solito Utilizzo Wast Per muovermi Destra a sinistra A destra a sinistra Davanti e dietro Non ce l'ho qua Perché Gamepad Perché il gamepad Non me lo fa usare Per quale motivo Modalità eco Raga non mi fa utilizzare il gamepad Perché Controlli gioco Editor di controlli Sì sono semulatore Android Sto utilizzando Bluestacks Io me ne pento raga Ad aver utilizzato Bluestacks Io raga me ne pento No minchia io caccia Io adesso Io non è che spacco il computer Minchia io adesso lo prendo Minchia io adesso lo prendo Minchia adesso lo prendo Porco Minchia lo prendo Spacco tutto Minchia lo prendo Spacco tutto Minchia 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 te lo giuro Minchia minchia raga Come potrei veramente Far esplodere la madonna Quella grande Puttana di merda Mamma ve lo giuro Edit tutte le controlle Puttana Che Non mi fa Raga Raga mi fa cambiare Raga Non mi fa cambiare I comandi Non mi fa cambiare i comandi Non mi fa cambiare i comandi Non mi fa raga cambiare i comandi Io non ho parole Non ho parole Non ho parole Cazzo come è cambiata l'ora raga No È cambiata l'ora Dalle due alle tre Sono le tre adesso Ma perché erano Erano le due prima E non me ne sono accorto Ah perché c'è l'ora legale Cazzo Cazzo Ma perché raga Fino a due minuti fa Erano le due Me ne sono accorto Minchia è vero Porca troia Raga Si dorme un'ora e meno A posto Raga si dorme un'ora e meno Si dorme un'ora e meno raga Un'ora e meno si dorme raga oggi Porca troia Un'ora e meno Porca puttana Oh madre di dio Si dorme un'ora e meno raga Aiuto Aiuto Raga sono le tre Ah raga sono le tre Minchia terradissimo Qui c'erano questa sera Presente fino alla fine Grazie Teo Ti amo E il mio portaforna ancora le due Perché devi aggiornarlo Minchia raga che palle Sono già le tre Ciao Buono mio Andre Minchia sono già le tre raga Porca puttana C'era l'ora legale Ma il mondo ha skippato un'ora Si Per tutti quanti raga Dorme un'ora e meno Per tutti quanti Che due coglioni Si dormirà un'ora e meno Ora illegale Ora illegale Ora illegale Caputana Raga perché non mi fa mettere i tasti Dai E fammi mettere sto cazzo di tasto Comunque come stai Mora mio Andre Tutto bene Infatti Posso dire il gioco dove Ti cagheranno Ma raga se funzionasse Io ve lo giuro Io voglio giocare con voi Porco dio Ma se non funziona sto cazzo Di sta merda Io raga non posso giocare un cazzo Con voi Non posso giocare un cazzo Niente Dio merda Niente Niente Tua madre è una puttana Tua madre è una puttana Tua madre è una puttana Niente Tua madre è una troia Di merda Ma non c'è un cazzo da fare Tua madre è una puttana Di merda Basta È una puttana È una puttana Basta Puttana è puttana Di mare E puttana con la droia Di merda Allora Crazy animatronics Si è una puttana Si disconnetti Chi ho visto solo La cellulare non puoi Prova la cellulare Bluestacks che schifo Eh lo so Lo so Bluestacks è una merda Utilizza AD player Eh ma Il bello che è successo tutto Tutti in diretta Eh raga io non l'ho potuto vedere purtroppo Hanno guardato una pubblicità Per schippare sto Io ho fatto Le gestazioni schermo Oh mandamela calcio in tal caso Mandamela No comunque raga Io veramente io non ho parole Io raga non ho parole Giuro scusatemi Raga scusatemi veramente perdonatemi Perdonatemi adesso provo da cellulare Ma veramente scusatemi Scusatemi raga Non mi voglio raga far perdere Tutto sto tempo Ma veramente Cioè Non mi voglio Non vogliamo perdere tutto sto tempo Palle Dio merda Io non me lo voglio Devo perdere Controlli gioco Che palle ragazzi Cioè io raga Neanche il tempo che faccio Che faccio salva E poi Qua raga non va più un cazzo Raga forse funziona Forse Forse va Boh non lo so Vai porco di Aspettiamo Tommy canta una canzone La buonanottica E' tardi Cos'è ma Andiamo a dormire Andiamo a dormire Andiamo a dormire Ma stai tranquillo Calcio Stai tranquillo Raga Mi ho portato Perdo un sacco di tempo E poi Guarda che adesso La rilezza Oh Più o meno Vada Raga Più o meno Più o meno Cioè E' più che meno E' più E' più che meno Non va proprio tutto bene Non va proprio bene Pure te sei il mio cucciolo meteo Oh Via Andrea Vabbè che sentiamo Baby Vabbè che sentiamo Cucciolino Vabbè che sentiamo Cucciolo Vabbè baby Dai cazzo Dai Io non darò Per questo malissimo No Cos'è che c'è Vabbè 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 Consigli per diventare ricchi Ma consigli per diventare ricchione Come te Consigli per diventare ricchione Con la puttana di tua madre Così 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 Come si mette La figa di tua madre Che la farò diventare stanotte Con la dimensione Tronto La figa di tua madre Che la farò diventare così grande Così In questa dimensione Quanti centimetri Ok Ok È posto Ok chiude Grazie Excellent 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 Oh fermo eh Raga Io ve lo dico C'ho il volume Al massimo Oh Oh Raga Calmi eh Raga Stiamo calmi Per favore Per favore Stiamo calmi Non c'ho manco lo shift Dio merda Non c'ho manco lo shift Quindi raga Oddio eh Non c'ho neanche Neanche raga Lo shift Calmi per favore Sono bestemmio Primo cagamento Adosso No 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 Ancora siamo all'inizio Ancora siamo all'inizio Calmi 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 Oh tuo padre Tuo padre Tuo padre Oh tuo padre Camadonna 5 6 1 5 6 1 Minchia raga Ma c'ho il controller Tutto disabile Raga c'ho tutto il controller Disabile raga Però minchia Non mi riesco a muovere bene Cristo dio Mannaccia la puttana Tutto il controller Raga disabile C'ho Cribbio Tutto sminchiato Cazzo Niente raga Dai Scalchiamoci un altro emulatore Dai mi sono rotto i coglioni Cos'è che mi posso scaricare? Cos'è che mi posso scaricare? Perco Dio Perco Dio Mamma Perché Tu coglioni Ho mangiato Cris of France Purtroppo Edo No no Sto che lo sanno Fammi saltare Sta cazzo Di roba No 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 Puttani no No puttani no No puttani no No puttani no No incinta 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 No 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 puttani incinta No 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 puttani incinta No No puttani incinta No No raga c'è una puttani incinta C'è C'è la raga Una incinta Bacca 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 Dai raga ce la possiamo fare Raga ma questa è nuova No ancora raga Ancora siamo all'inizio Minchia ancora siamo all'inizio Secondo me si è fatto un palo Con l'incinta ha fatto così Oh yes baby Ma ancora siamo all'inizio Raga ma quello sono io quando mangio McDonald's Wow bello Pazzo Pazzo Pono 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 cazzo Po Niente raga Niente raga basta più Basta Basta puttane Troppe puttane ci siamo viste Troppe vacche Questo è quello che succede A vederci troppe puttane Eeeh Ustallalo Dopo lo installiamo Dopo lo installiamo Raga ma qua com'è che si corre eh Raga non c'ho il to Non c'ho il tosto per correre raga Cioè siamo inculati qui eh Qua stiamo letteralmente inculati Perché non esciendo da telefono Qua raga non funziona un ben amato cazzo Non funziona un cazzo di niente Siamo messi bene Raga siamo messi bene Siamo messi bene Il tasto in parte eh ma Devo premerlo io con Come si chiama Con Con il mouse E poi mi Mi smerda tutto Mi smerda Guarda 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 Mi se ne va tutto a fare in culo Se ne va Eeeh E' questo il problema Poi se ne va tutto a fa in culo Oh I meet Dei fondi Eeeh vabbè Oh mio padre No No mi risosio No No Caputo Tira un po' di sistema Ma raga Ma che due coglioni Che palle raga Però Oh Dio Merda Allora siamo Raga ma se io Io raga non mi ricordo questo gioco Ma se io mi avvicino Cosa succede Raga ma se mi avvicino Io cos'è che succede Io non mi ricordo Oh percodio Fermo 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 Sessantotto Quarantanove Sessantotto Quarantanove Non mi ricordo Che cosa Che cosa succede Non mi ricordo Raga Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Un cazzo Raga di questo gioco Puttana tua madre Puttana tua madre Puttana tua madre Puttana Tua madre Quella grande bagascia Di merda Facendo che ti spuntano Cosa davanti Ma raga ma che cazzo è Alco Allora Ciao Ale Ma come stai cuccio Raga io non me lo ricordo Il gioco Non me lo ricordo Giuro Quindi se Se mi dite Quando spawna Io comunque raga Non mi ricordo Un cazzo del gioco Non mi ricordo Raga un cazzo Anche se raga Mi dite Quando spawna Io non mi ricordo Quando spawna Non me lo ricordo Raga Non me lo ricordo A posto The second Electrical panel Dove cazzo lo trovo Scusami Eh ma Però Mero ti coglioni Però Madonna Puttana Va vai a fare Il culo Troia E che cazzo Raga ma Corcodio Eh no Niente Eh no Vabbè Si ma Si ma raga Ma che tu coglioni Dai Adesso raga Mi scarico La mod Mi scarico Adesso mi scarico La mod Cazzo Adesso mi scarico La mod Ma vai a fare In culo Ritattato In merda Ma si ma Pesta anche tua madre Pesta Ma vai a fare In culo Ma vai a Fancolo Ma si ma giochiamo Qua la puttana Di tua mamma Giochiamo Vai a fare In culo Anversa Ma dove Dovrei entrare Che devo fare Ah no no Devo andare Ah Devo andare Ah Ok 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 Devo andare Dalla Cosa Fino a che lo sto Ma boh Non lo so Guarda il cellulare Il tablet Forse Ha Ma Sparco Minchia raga Io giuro Adesso Raga Raga Facciamo così Dove cazzo è Facciamo così Un attimo Ah ma c'è il due C'è il secondo Oppure Dopo Come se ne batti Cioè se già Il primo mi faccia cagare sotto Figurati il primo Eh 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 Cosa 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 4 ore 69 No 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 Cioè io Devo spendere 4 ore 69 Per togliere Delle pubblicità Ma te veramente Ok a posto Te vuoi fare così Te vuoi fare così Te vuoi fare così E allora io faccio così L'aspettate Allora raga Essendo che lui fa così E io faccio così Allora Ah no cazzo Devo andare sull'altro Essendo che lui raga Fa così Allora vado qua Faccio Vado Vado qua Vado a scrivere Case Animatronics Tu padre Case Animatronics No Ats Guardi almeno Voglio vedere Oh A posto Raga Mi scarico la mod Raga Mi scarico la mod Per avere vite infinite E per Eh Alla storia Non si vede Per avere vite infinite O è brutto Oh raga Poi è brutto Come cosa Avere la mod Dite che Dite che è brutto No Voi cos'è cadete Ma vaffanculo Ma che cazzo Ce ne frega Ma vai a cagare va Ce ne frega a noi Basta che non c'è Una pubblicità E speriamo Che se animatronics Se vuoi sta allora Un aggiornamento No Aspetta Aspetta Disinstalla Disinstalla E installa Vai a fanculo No 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 Come sono queste cose russe Scusa Mi dissocio Ma non è cambiato Un cazzo Raga I semblato Non è cambiato Ma non è cambiato Conui Ragazzi ho scioppato 500 euro solo per voi Godo testo di cazzo Minchia quanto godo Minchia quanto godo Mamma mia ragazzi godiamo tutti quanti in chat Godiamo Minchia quanto godiamo in chat Mamma mia Quanto godiamo Ah che belle Nessuna propria pubblicità raga A poffa Mamma mia quanto godiamo Quanto godiamo guys Godiamo come dei maglialoni godiamo Come dei maglialoni appena nati Mamma mia Che ballo sexy lo so baby Godiamo come dei maglialoni Godiamo come dei maglialoni Eh Hacker non me lo fa fare EFram non mi fa Non mi fa aprire happy mod da questa versione di Di bluestacks E' un po' particolare bluestacks E' un po' particolare E' un po' particolare raga Ok got it Dai 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 Che ne vogliamo andare avanti Che ne vogliamo andare avanti Bezza di merda Vai puff Vai raga adesso siamo Tommy oggi mi sa che per colpa Della mente da domani Eh raga purtroppo Purtroppo raga mi sta dicendo Comunque raga Noi siamo matti Cioè sono le 3.22 Siamo in 18 Mamma mia raga Ma io vi amo tutti Cazzo Io raga abbiamo tutti Io raga abbiamo tutti quanti Viamo Viamo tutti Abbiamo tutti Viamo Tutti quanti Comunque raga si sente audio di gioco bene vero Comunque raga si sente audio di gioco bene vero Comunque raga si sente audio di gioco bene vero Ok Ho la patente Eh no baby Non ce l'ho Ma non ce l'ho perché raga Non Non voglio fare la Al mo 96 9620 9620 Al momento raga perché Comunque non mi volevo Ah ma raga ma devo accendere le luci Devo accendere Ma raga devo accendere le luci Ma basta che me lo dite no Ma basta No No Non me lo ricordavo sto pezzo Raga Raga non me lo ricordavo sto pezzo Non giuro Non me lo ricordavo Fino a quattro rimango in live Ma boh fino a quattro e quattro e mezzo No ma no Ma raga ma c'hanno lo stesso di pubblicità Ma c'hanno accambato lo stesso Si stronzi Sti russi di merda Ma c'hanno lo stesso di pubblicità Sti pezzi di merda No dai non ci posso credere Ma diceva no pubblicità No ads Che easy creepata bastardo Pezzi di merda No raga ci hanno scappato niente Però quando mi senti tu mi dicevi Una giornata No Alessandro ti amo Minchara ma che due coglioni Ma Dio cane ma veramente Dio cane bastardo Ok salvataggio Tua mamma C'è console room Dov'è Dov'è la console room Minchara mi sono preso un infarto Si si che scambio si Ma che scambio si veramente Raga Quanto ci scommettete che si prendo questo foglio E compara pubblicità Quanto ci scommettete da 1 a 10 Quanto ci scommettete da 1 a 10 E scompa la pubblicità Quanto ci scommettete E compara la pubblicità Adesso Guarda adesso la chiudo Ah no No Buh Vabbè No adesso non è comparsa A bui velocità Ancora te Oh ma ancora Ancora qui sei 3 1 6 8 3 1 sei uno stronzo 3 1 6 8 Raga devo trovare la stanza Per mettere il codice Forse questo No La stanza vado a mettere il codice Oh porco Porco dio Maledetto stronzo Maledetta la tua madre Ma raga Ma che cazzo è sta roba Oh Ma sta roba non c'era Ma che cazzo Ma raga Ma sta roba non c'era Fino a quando lo giocavo io Ok Ma è una cosa nuova Che hanno messo Ma è una cosa nuova raga Che hanno messo Sta roba No raga Questa qua è una roba nuova Non c'erano mai stati Raga Sti qua Oh Oh Te lo giuro Che c'è che compare dietro Porca puttana Guarda Prende un infarto Oddio Oh Fermi eh Con l'app di booking.com Puoi trovare il tuo hotel ideale Puoi scegliere tra tantissimi filtri Per prenotare con facilità Scaricali subito Picchiato lo giuro Picchiato lo giuro Picchiato lo giuro Ma perché non mette le pubbliche Perché Perché Non lo so Perché non lo so Adesso andiamo ad ammazzare Sti luci di merda Questi luci di merda Adesso li sterminiamo Oddio cane Tutti Tutti li sterminiamo Sti luci di merda Tutti li andiamo a sterminare Sti stronzi Andiamo a parire A domani No no raga Io sta parte me la ricordo No No ragazzi Oh Cristo Dio Oh madre padre Oh madre Oh madonna puttana Oh madonna puttana Aiuto ragazzi Aiuto 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 Porco Dio Porco Dio Porco Dio Porco Dio Oddio 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 Mannaggia La puttana Oddio 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 Zitti Zitti Fermi 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 Raga Fermi Ti zitto Oh madonna Non respirare Sei zitto Cornuto Non respirare Non respirare Pezzo di merda Ciao calcio Non respirare Stati cazzo Non respirare Stronzo Non respirare Sei zitto Oh stai zitto Stai zitto No 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 Raga Adesso mi cago Dosso Però No no Adesso mi cago Dosso Raga Non voglio Uscire Oh mamma Oh mamma Madre padre Ciao Ah possiamo collaborare Possiamo collaborare Per caso noi No 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 Perco dio Stai ritornando qui Ancora 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 Stai ritornando qui Ancora Stai ritornando qui Ancora sto pezzo di cazzo Ancora qui È vicino È ancora qui Ancora Ciao amore mio Porco dio Porco dio Porco dio Porco dio La madonna Oh madre Santissima Chiudi Chiudi Sta porta di merda Chiudi Mamma mia Mamma mia Allora Dovamo trovare Una chiave Dovamo trovare Una chiave Bella domanda Dovamo trovare Una chiave Ragazzi Raga Io mi cago sotto Io ve lo dico Io raga Mi cago sotto Io raga Mi cago sotto Allora Una chiave Dovamo trovare Una chiave Dovamo trovare Una chiave blu Trovo la chiave Raga Io mi sto cagando sotto Io ve lo dico E non poco No Stai zitto Coglione di merda Cazzo Fai rumore Coglione di merda Minchia Tuo padre Tuo padre Quello bastardo Zitto Zitto Tuo padre Raga 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 Porco dio Raga Porco dio Dove cazzo La luce Raga Luce Oddio 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 no ancora no raga ancora no però eh no ancora no ancora no 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 ti ho smerdato addosso oddio caro puttana niente puttana la madonna ciao dario muatiamo no no però raga io mi devo cagare sotto ragazzi io mi devo cagare sotto raga raga allora io provo a fare una cosa io raga provo a fare una cosa ok io ci provo io ci provo e io ve lo dico lo shift lo shift raga io non ce lo faccio neanche come tasto e farò una stronzata ok però voi vi dovete fidare di me raga voi vi dovete fidare di me ok raga voi vi dovete fidare di me vi dovete fidare di me ok io ci provo Dio non mi fida corri porco dio raga zitti zitti raga lui non sa che sono qua raga lui non lo sa eh raga lui non lo sa raga lui non lo sa fermi uuuu dio merda Però io adesso devo aspettare che lui va di là Allora io devo aspettare adesso che lui va di là Con una nuova via di uscite Oh madre santa Oh madre santa Oh madre Rega devo mantenere sto cazzo di chiave Però c'è sto pezzo di merda che porco Sto finocchio No raga io ho capito dove cazzo è la chiave No io raga ho capito dove cazzo è la chiave Mi sa No io raga l'ho capito Io l'ho capito il problema è sto spezzo di merda Io raga l'ho capito dov'è Io raga ho capito dov'è No succhia cazzi no succhia cazzi No no succhia cazzi no 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 Te non puoi entrare Te non puoi entrare Pezzo di merda Te non puoi entrare Te non puoi entrare Te non puoi entrare succhia cazzi Te non puoi entrare Te non hai il potere Te non hai il potere per entrare Dove cazzo Dove cazzo è Raga dove cazzo è È bloccato qua È bloccato qua Ciao cacciagazzi Ciao cacciagazzi Ciao cacciagazzi Se ne possiamo parlare se vuoi Ciao cacciagazzi Porco dio Porco dio No 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 Raga 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 ho fatto ragazzo No 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 dai no dai Dai cazzo Dai cazzo Ma raga ma come cazzo Ma come cazzo M'ha visto il buio Di sto strozzo Ma raga ma come cazzo M'ha visto il buio Sto pezzo di merda E adesso com'è che scappo adesso? Tuo padre Tuo padre Tuo padre Tuo padre E bastardo Ci son passato sopra la chiave Ci son passato sopra Si comunque raga Raga dovrei mettere lo shift per Per la corsa Provo raga a mettere lo shift per la corsa Nella speranza che non crash il gioco Ma non è meglio fare just dance Eh dovevo fare just dance Dovevo fare just dance Dovevo Però per colpa anche dell'orario C'è 42 Dite che crash Nel bagno Cazzo nel bagno c'è ragione Non l'ho visto Non l'ho visto nel bagno Provo raga a mettere la corsa con lo shift Nella speranza che crash Ciao gaccia Un bacino Ciao baby Nella speranza che non crash Prova Pregate dio che non crash ragazzi Pregate dio che non crash Dai non crash Dai Ragazzi io ho un modo Io raga ho un modo per capire Per non farlo crashare Allora in questo momento raga voi vedete giusto Se io non lo faccio vedere Io non In questo momento non do memoria Bluestacks Cioè Non faccio sprecare l'energia Beh avete capito Comunque E in teoria non dovrebbe crashare Sperando Editor dei comandi Allora io faccio così Ruota Tocca il punto Tocca ripetutamente Tocca il punto Tasto ridimensionale No Ruotare No Tocca il punto Allora se io faccio Allora Shift Posso mettere Shift Posso mettere Oh Oh Mettimi Shift Stronzo Mettimi Shift Tasto Shift Ok Shift Bravo Bravo Shift Bravo No Non entra Shift Questo me lo togli Però Raga devo capire No Mamma mia Raga Let's go Raga Let's go Abbiamo finito Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Raga Paggia delle mondiali Abbiamo vinto Raga Paggia delle mondiali Abbiamo vinto Raga Abbiamo vinto Raga Paggia delle mondiali Abbiamo vinto Abbiamo vinto Paggia delle mondiali Aspettate un attimo Abbiamo vinto Raga Paggia delle mondiali Un attimo Uff Eh no 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 Lo so che vedete Nero Guardate qua Let's go Let's go Eccolo Oddio Minchia Poverino Si è scancato Abbiamo vinto Raga Paggia delle mondiali Hola Cioè Paggia delle mondiali È un modo di dire Cioè Non funziona proprio Un cazzo Però Mamma Mamma Ciro Alessandro Ciao Ale Così mi sono perso Niente Ciao Fabio Buonanotte Oddio Oddio Paura Laga Ho molta paura Porcone Porcone Di un cane Porco Tampino Questa è la stanza Dove sta la chiave Eh Come l'avete detto Perché raga Non me lo ricordo Giuro Io raga Non mi ricordo niente Sto gioco Mi fai come prima No no Dopo mi incula Questo qua mi incula Mi incula Faccio sempre la live di notte Eh raga Magari Ora come ora Perché raga C'è Pasqua Pasquetta Che ci sono Sti giorni Eh le faccio Perché se no raga Di solito Live Eh Ferà Di solito durano Dalle 10 Che una mezzanotte Poi basta Quindi poi Da mercoledì Purtroppo Purtroppo Da mercoledì Finchè non ritorna Poi Finchè poi raga Non ritorna Il venerdì E il sabato Non si potranno Fare live di notte Quindi sono Di Ancora Sono stronti Oh Sì Chiacazzi Chiacazzi In estate In estate Sì raga In estate raga Preparatevi Perché saranno Due bei mesi E dico Due bei mesi Di solo live Anche notturne E anche maratone E anche raga Un maratone Sì riuscirò A fare Veramente De belle maratone Quindi raga Dovete solo Aspettare I prossimi mesi Dovete raga Piuttosto Aspettare Per 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 forza Aspettare i prossimi mesi Adesso no raga Cos'è la chiave Questa è la che parte Eccola la chiave La chiave La card Coddio Coddia la madonna Porca Coddia la madonna Dai vai a fare Il culo Minchia Minchia Che spacco Tutto Minchia Adesso arriva Un cartone Gli arriva Stompi di merda Apocalisse Minchia Ma finiva che arriva Un apocalisse Ricompensa ottenuta Ma ricompensa Di tua madre Mia madre Ha mandato Il premio Se rimanere Ancora un po' Grazie Mamma di caccia Grazie Mami Un bacino Facciamo una petizione Contra le pubblicità Chiama Magari Magari Tommi Nel negozio Cceppi Gratis Con la mod Compri Noads Con le mod Compri Noads Ma le comprate Raga Ho comprato Le noads Non ho tuo padre Porco Dio 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 Let's go Calmo 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 stai calmo Eh si devo andare Devo andare solo in quella porta Se ce la faccio andare in quella porta là Se ce la faccio andare in quella porta E quello è il vero problema Sempre se non c'è questo finocchio Tuo padre Quel bastardo Ah possiamo fare io un patto Ah se te non mi rompi i coglioni Ti porto tante di quelle caramelle A quel bastardo di tuo padre No no ciuccia cazzi No 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 ne possiamo parlare Puttana troia Puttana puttana Oddio ma che cazzo è diventato Oh madonna puttana Cod'è siamo se ci sono di super mario maria No ma io non è possibile veramente Cioè non è possibile ma io sento un discorso E non funziona un cazzo Cioè ma ragazzi capisci un cazzo Ma dai Oh madonna 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 madonnina bastardo È andata nell'evento Sì ha usato l'abilità di spider-man Ale Per un secondo è diventato spider-man È diventato Siamo negli avengers Avengers Per un secondo è diventato Eravamo negli avengers Avengers Niente non ci avvacciamo Ma raga ma scusate Ma per capire no Ma adesso mi scopa male giusto Ma raga ma per capire no Adesso mi scopa male Mi stai dicendo Ma per capire no Animatronics di merda Stunzo bastardo Quella bava te la devi infilare Tutta quanta super di culo Te la devi infilare No ragazzi è impossibile No 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 Neanche di secondi No no Ma neanche di secondi Sì sì veramente Ma raga Ma cioè È arrivato in due secondi Ma in mezzo secondo Raga dai No raga No ma lui non è che mica viene qua sopra Vero? Lui raga non può sapere Che sono qui giusto? Lui non lo può sapere Vero? Lui raga non lo può sapere Non lo può vedere Non lo può sapere No si può No come no Oh non scherzare Non scherzare Ma dove è lui? Ma dov'è lui? No due Allora lui è in fondo Lui è in fondo raga Lui è in fondo Lui è in fondo Lui è in fondo Lui è in fondo È in fondo È in fondo È in fondo Ma in fondo sto cazzo Porco Dio Ma raga non vedo un cazzo Porca modo Raga scusatemi Avevo bisogno di un po' di acqua Mi dovevo sciacquare Mi dovevo sciacquare un po' i capelli Mi dovevo sciacquare un po' i capelli Basta che non terrà Porco Sì Ale mi sa di sì Ale mi sa di sì Abbastanza Ma lui non mi vede Lui ancora non è entrato nella venta Mi sa che Figlio di puttana Figlio di puttana Figlio di puttana Figlia di puttana Vabbè Ale m'ha sentito... Ale... Ale ma lui... Lui m'ha sentito perché ha attivato l'acqua, lo spruzzino... Ha attivato... E quindi lui si è avvicinato... Sto pezzo di merda oh... No no raga no... No non ci si può neanche lavare, non ci si può... Pezzo di merda... No no... No no raga non è impossibile... Raga è impossibile proprio... Questo è un pezzo di merda... Questo qua è la mamma proprio puttana... Questo qua è proprio la mamma che è una zoccola... Altro che una puttana, una zoccola... Puttana e zoccola... Raga raga vedete qualcosa là in fondo? Raga vedete qualcosa là in fondo? Pezzo di merda... Ciuccia cazzi... Oh mamma mia... Cioè ma raga ma lui mi può entrare da qua... Ma veramente... Ma lui raga mi può entrare da qua... Porco... Fin da The Ben Office... To charge tablet... E dove cazzo è raga l'ufficio di Ben? E dove cazzo è l'ufficio di Ben? Non è questo? Oh porco dio... Aiuto... Non è questo vero? Ah no... Non è questo... Non è questo... Devi andare proprio la... No! Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Cazzo dici? Dove c'è il telefono? No... No no no... Oh... Oh... No raga porco dio eh... Maia la tua mamma... Non cazzo dici? Non cazzo dici? Non cazzo dici? Cazzo dici? Cazzo dici? Ma... Ma raga tranquilli tranquilli... Io vi aspetto... Oh mamma mia... Oh mamma mia... Oh tuo padre... Oh mamma... Ma sarai un pezzo di merda eh... Ma veramente... Pezzo di merda scroto bastardo... Vaffanculone! Vaffanculone madonna! Vaffanculone! Vaffanculone! offro esse... Vaffanculone madonna! Che cazzo dici? Vaffanculone! Ah ma quanti cazzo dici? Ma raga ma cazzo dici? No. Peter... Ah ma raga no. no 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 raga voi scemi no 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 raga impossibile cioè ce n'è uno dell'event ce n'è uno dell'event che è stato quando cazzo quando fa quando cazzo vado e uno che no no ragazzi ha tippato ha dato slash p sì no per forza no 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 se non me lo spiego no per forza questo qua raga si è tippato ciao mattia bevi l'acqua tome quando sbatti i piedi mi visse davanti oh mamma mia ragazzi si riesce a finire sto gioco ciao caccia buona pasca pure voi raga pure voi poi buona pasca poi domani poi domani raga vi faccio tutti quanti e live la buona pasca poi li faccio tutti cuccioli anche a voi cuccioli anche a voi buggerini no raga impossibile no raga pure te dragone anche però raga sono le 4 raga ma io domani quando cazzo mi sveglio raga ma io qua mi sveglio a mezzogiorno mi chiamo il mio padre e il mio padre mi prende a a raga qua mio padre mi prende a a pisellare cioè veramente no no qua mio padre mi prende a pisellare in faccia ragazzi domani che non mi sveglio no no ragazzi mi prende a pisellare in faccia qua cioè mi appena lo vedo è il boss finale cioè raga altro altro che robot tale qual boss finale mio padre no no se non mi sveglio ragazzi no no diventa il boss finale il boss finale con 4 robot di fianco che si sdoppia per 4 si sdoppia se non mi sveglio poi the big ciola no no raga diventa il boss finale raga diventa il boss finale anzi cos'è almeno raga dormo un po' di più mi metto la preparo tutto quanto raga vado subito a letto cos'è almeno mi compro cuffie nuove che queste qua ormai guardate io faccio così si rompono subito raga può che chi è che le vuole a qualcuno a qualcuno di voi raga ve le regalo ve le regalo e le autografo contami le due no no ragazzi no 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 ma c'è un po' di differenza eh vabbè raga c'è un po' di differenza vabbè allora facciamo così no essendo che questa già è rotta allora facciamo così vaffan qua la madre a posto ragazzi ma ho finito oh a posto eccolo qua adesso va bene adesso raga si che va bene adesso si adesso si che va bene adesso si raga adesso si adesso si che va le abbiamo le abbiamo le abbiamo raga modellate come si deve le abbiamo raga modellate come si deve ah 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 si ciao ragazzi sono mister ciuccia guffe ora si ragazzi che le abbiamo modellate le dobbiamo staccare le dobbiamo staccare allora prima che le stacco prima Ma che le stacco, raga, con queste cuffie qua? Prima, raga, che le stacco Io Io, raga, devo fare una cosa Devo fare, raga, una cosa Devo, raga, fare una cosa Un secondo Datemi un attimo Puoi dare la buonanotte a Carmine? Perché, Carmine, sei andata? No, Carmine Ciao, Carmine, mua, ti amo Buonanotte, Levi Allora Una bellissima Raga, un secondo Devo mettere, raga, una bella cosa Datemi Datemi solo, solo mezzo secondo Mi dovete dare Solo, raga, mezzo secondo Che arrivo subito, eh Proprio mezzo secondo, raga, mi dovete dare Mezzo secondo, raga, arrivo subito, raga, giuro Giuro, raga, arrivo subito Ora metto siccio No, no, non metto siccio Non metto siccio Devo solo, raga, fare un secondo Un attimo, raga, una cosa E arrivo, raga, subito E arrivo, raga, subito, giuro Ok, raga, ci sono, eh Ci sono, ci sono Allora Prima Prima che raga Staccavo la live Volevo cercare una cosa Volevo cercare Mi è partito l'audio a 100 Prima, raga, staccavo la cosa Una cosa Prima, raga, staccavo la cosa Volevo Ehm, dovevo cercare una roba Eh, parte, già, pide, no, no, no Stavo cercando, raga, una roba, man Mmm, non la trovo Ma figa della figa della figa Sfis, fisis Siss E raga, purtroppo non la trovo E non la trovo, cazzo Sono diventata una suora Perché sto Sto ferro da 1300 anni Se vuoi ti faccio diventare io Una suora Ci metti 5 secondi Ci metto, ci metto 2 minuti Ti faccio diventare io suora Non ci sono problemi, eh Cioè, basta me lo dici Faccio diventare io suora 2 secondi Ha, 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 mi è già finito 2 secondi 2 secondi Mia madre si è svegliata E ha fatto il meme del cor Del tipo che Che corre Grissin' bomb Grissin' bomb Grissin' bomb Aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Ah, papà mi voleva dire questo per caso Aveva fatto questo per caso Aspetta, aspetta Ha, ha fatto questo per caso Grissin' bomb Grissin' bomb Grissin' bomb Grissin' bomb Aspetta Oggi porta in tavola una novità Grissin' bomb Grissin' bomb Oggi porta in tavola una novità Due a due confezionate sono le fette BISCO TAT Grissin' bomb Grissin' bomb Grissin' bomb Con i gongoli croccanti Che sono tanto appetitosi Ogni schiaccia il fornarelli E i gustosi Fa dolosi Stuzzica L'appetito Che sono tanto appetito Sì Ecco Non è il copyright E' questo il problema Non so se è copyright E' quello il vero problema E' quello il vero problema Non so se è copyright In tal cosa te lo prendono nel culo No questo Se copri te lo prendono nel culo ragazzi Potentissimo Cioè peggio di una puttana Peggio la che di una puttana Molto peggio Molto peggio Guardalo che cos'è Che cos'è che ho mandato Aspetta Aspetta fammi vedere Aspetta adesso lo vediamo Un attimo un attimo Green capture Nananananananana Nananananana Un attimo un attimo Minchia raga comunque siamo La vita può riservare delle sorprese Sì tua madre di notte mi riserva Dadadadadadadun Datadadadadadadadadon Oh madonna No no Porca puttana ragazzi Oh madre di dio Cristo dio raga Peso un infarto No però raga io prima di staccare la live Prima di staccare la live Un acropoid Sto cercando Una cosa Ma purtroppo non la trovo più Eeeh vabbè Prima di staccare la live ecco esatto Prima di staccare la live Prima di staccare la live C'era una musica C'era tanto tempo fa una musica Quello però purtroppo non Non ricordo più Purtroppo E vabbè Che cosa ci possiamo fare Dio cane dio Ma raga Raga io sto morendo di caldo Non so voi Ma raga io Io raga Sto crepando Dal Calore Ma io ve lo giuro Io raga ve lo giuro Ve lo giuro Su quel dio E io raga ve lo giuro Su quel dio Che io raga sto morendo Di caldo Come una grande Puttana In calore Come una puttana Raga in calore Come una puttana in calore Vedi cosa c'era questo Cioè io raga Cos'è che devo fare Io devo andare Da qualche parte E veramente Mi devo lanciare Con acqua addosso Cioè Sennò che cosa cazzo Devo fare Raga io sto morendo di caldo Che sto letteralmente morendo Porca puttana Sei del nord o del sud Io sono di Milano baby Non del nord Sono del nord Devi Con la maglietta Vabbè Con la maglietta Mica Mica fa caldo Cazzo Però vabbè Ma qua Qua con il computer Di mio fratello E tutto Figa Si muore di caldo Penso che posso Mere schiattato Figa di Cristo Dio Posso Mere veramente Schiattato Posso morire Posso Mere schiattato Posso Porca puttana Oh mamma mia Come si fa raga Come si fa Come si fa Comunque Si con la finestra aperta Sarà tutto sto tempo Cioè te sei con la finestra Te sei con la finestra aperta Ma veramente Ma veramente Fai Sei serio Ma veramente Cioè Raga ma chi è che con la finestra aperta Tanto Tanto raga Per capire Chi è raga Con la finestra aperta Chi è raga Con la finestra aperta Tanto per capire Cioè c'è qualcuno E io raga Faccio tutto chiuso Tutto chiuso E vengono per colpa Di mio fratello Ma ci sei Almeno fatto un riposino Magari Giuseppe Giuseppe ma magari Cazzo Vado a dormire adesso Vado a dormire Fra Magari riposino Ancora raga Me lo devo fare Riposino Magari riposino Magari riposino Sarebbe troppo bello Sarebbe troppo bello E riposaino Tom me leggi il messaggio sopra E' tutto chiuso E poi mi lamento E poi mi lamento E poi mi lamento E non ho letto Un cazzo Porco Allora Ci sono 25 gradi In casa mia Mi piace veramente 25 Da me qua ce ne saranno 60 Ce ne saranno 60 Facciamo le 6 a sto punto No no raga Veramente io voglio Cioè Se veramente raga Potrei fare qualcosa Ok ma Raga Domani mi Mi pestano Cioè Non è che mi pestano Posso anche stare Quanto voglio Sveglio Però raga Poi non Mi sveglio ma Moio Raga Moio veramente Ma ve lo giuro Ve lo giuro Che poi Moio Per terra Voi raga Voi mi vedete per terra Così Diretto Guarda Scrivete raga Il messaggio Alessandro Cos'è che è scritto Ale Tommi domani Devo svegliarmi alle 7 Sono le 4 e 15 Ho detto tutto Ma che cazzo fai Ma che cazzo Ma vai letto Ah madonna Il ban Ma cazzo Ma ancora sveglia Che cazzo Ti fai Sveglia Minchia Minchia Ancora Sveglia Ancora Ancora Avevo riscritto Per il sbaglio Ho cambiato live Mi sono ritrovato Una tizia Aspetta Minchia Mentre c'è qualcuna Come scrive Gli auguri di Pasqua Ah non ho fatto Gli auguri di Pasqua Tanto raga Comunque Le faccio anche domani Auguri cucciolini Tanto domani Ve le faccio raga Comunque Ve le faccio raga Comunque domani Se in tal caso Mi sono dimenticato O se non Se non Se non Se non ve li ho fatti Tanto mi ce li sono Leggi su Leggi su No Le pisciolate in faccia No Auguri pure te Pure te baby Pure te gocciolino Pure te amore mio Amore di papà Amore mio di papi E zi papi Oh mio dio Oh mio dio Teo vai a letto Vai a letto Cazzo Attanto adesso Attanto adesso raga Andiamo tutti quanti a letto Andiamo Andiamo tutti quanti adesso A letto Tutti tutti Andiamo tutti quanti a letto Tutti quanti Tutti 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 ti amore a letto Tutti quanti Grazie Ehm Comunque Raga Le ultime cose Prima che stacco Mi vorrei dire qualcosa Prima che stacco Quando non sono altro Io raga Stacco E noi penso che ci vediamo Direttamente Domani dai Penso che ci vediamo Direttamente domani Che Mi vado un po' Arrivato Domani Faccio Just dance Domani Sì dai Domani facciamo un po' di Un po' di just dance Sì Domani sì L'avevo promesso che lo facevo Lo facevo oggi Però Fica Non Non l'ho fatto Eh ma perché raga C'è stato pure il tempo Tutto quanto Quindi Ciao Ciao proprio Non Non ce l'abbiamo fatta Manco per il cazzo Manco per il cazzo Ce l'abbiamo fatta Auguri pure a te Dario Auguri pure a te Baby Quindi non ce l'abbiamo fatta Manco per il cazzo Proprio Ok Che dire Io Vi voglio bene Io ragazzi Io voglio bene Siamo pazzi Siamo ancora In 12 live Siamo ancora raga In 12 live Siamo 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 tutti fuori Siamo Siamo tutti quanti fuori Tutti 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 Completamente fuori Però io Vi voglio bene Per Io ragazzi Vi voglio bene Perché ovviamente State in live E veramente Io vi ringrazio Come non mai Siete Siete numero uno Per me Beh A parte io Che beh Sono 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 scemo Stai pieno A quest'ora Però Finché siete voi Raga Io farei questo e altro E Che donna Io stavo cercando Una cosa Che cazzo non riesco Che cos'è che è scritto Che cos'è che è scritto Riescrivi il messaggio Riescrivi il messaggio Riescrivi il messaggio Non posso andare Su Su Riescrivi Te il messaggio Se vuoi Io già sono Sono stanco Morto Sono stanco Morto Metti No No Mi dissociano Dopo Dopo mi scopano E dopo Dopo mi scopano Tutto Mi scopano Se dovrei mettere Una roba del genere Dopo Mi scopano Tutto Mi scopano Mi scopano Tutto Quanto Il zuzzo Tutto Quanto Cazzo Comunque Raga Incredibile Che io non riesco a fare Una roba Grazie Dario Raga Io voglio bene Io Raga Io voglio bene Per chiudere in bellezza Io per chiudere in bellezza Io vedo Stavo cercando Una Una bella canzone Ma Purtroppo Non riesco a trovarla Non riesco Purtroppo a trovarla Baby Purtroppo Non riesco Raga a trovarla Che ti posso fare Cos'è questa qua Cos'è No No Non questa Non questa Non questa Non questo 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 Non la trovo Eh niente raga Non trovo Nessuna canzone Per Per chiudere in finale Zero completamente Non la trovo Non la trovo Purtroppo Ale Se riesce a farmi qualcosa In tal caso non si sa mai Se riesce a trovarla Tutta gold Minchia raga Mi danno un copyright pazzo Mi danno un copyright pazzo dopo Poi mi bloccano la live Poi raga mi blocco la live Poi raga mi blocco la live poi Se la metto Stank Stank tra due minuti Che cos'è? Cosa il copyright Il copyright è praticamente una roba che Se te lo danno Cioè non succede niente Però se te metti una canzone Che è bella pompata Che comunque va di moda E se te roba qua Ti possono dare il copyright Cioè lo strike È difficile che ti danno uno strike Su una canzone molto Anzi impossibile Ti danno massimo un copyright Ma è possibile che ti danno uno strike Cioè tutto è possibile Tutto è possibile Ovviamente noi speriamo che Noi speriamo che non lo riceviamo mai Lo strike Anzi Io già L'ho ricevuto una volta lo strike Ma Poi raga dopo una settimana Dopo una settimana raga Poi è finito tutto Per fortuna Per fortuna Poi è finito tutto quanto E Ringraziamo Dio Limitano le live Ecco esatto Limitano le live Quando Quando sbatteva Le guffe a terra Sembrano le cipolle E il capodanno Anche io Che cosa che ha scritto Flavio Il copyright si mette Una canzone famosa Cioè Te la mettono in quella Basta Ma voglia Ma io c'ho un sacco Di copyright Io Io c'ho un sacco Raga di copyright Ha proprio Un Un botto Ha proprio raga Un botto Di copyright Io Mamma mia Un sacco di raga Di copyright Ne ho Anzi Se anche raga Tipo Se anche raga Io tipo Metto questa canzone qua No Sì raga Metto questa canzone Adesso io faccio vedere Se la trovo Sì raga Metto questa canzone qui Questa raga Sì metto questa Metto questa qua raga Questa qui Eccola qua Eccola Eccola Questa la per Cioè Per Per Eccola Eccola Il Questa Sàca Sàca Ommenda Basta ormai è andata È andata Allora Dai ragazzi Quanto è in mezza Siamo divertiti tutto quanto Ando un po' A letto Mi sono preso Io non ho fatto il culo E niente Io ragazzi vi voglio bene Noi ci vediamo domani alle 22 Sempre con una live Nuova Mi voglio bene Cuccioli Buona Pasqua Che ve la faccio anche stasera E vi auguro Una buonanotte Una buonanotte Ciao Cuccioli ciao Ciao Un bacino a tutti quanti baby Ciao Cuccioli ciao 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 Viamo Ciao Cuccioli